buon pomeriggio benvenuti sono Maria Simonini sono responsabile dell'ufficio promozione dello sportello commercio estero della camera di commercio di parma e ho avuto il piacere con la collega leonora ario e con il dottor simone del nevo di organizzare questo ciclo di webinar sono tre pomeriggi che dedichiamo come dire a tre argomenti che sono tre argomenti diversi ma sono senz'altro legati da un filo rosso molto molto importante gli argomenti di cui parleremo oggi l'argomento di cui parleremo oggi è l'origine delle merci che si distingue come tutti sappiamo in origine preferenziale in origine non preferenziale quindi affronteremo l'argomento è suddiviso in in questi in questi termini il 27 giugno invece parleremo della classificazione doganale delle merci sempre al pomeriggio e il 3 luglio sempre al pomeriggio affronteremo un tema come la lettura insomma la conoscenza l'approfondimento della bolletta doganale che è uno come dire dei documenti che chi importa esporta assolutamente ha sempre sulla sulla propria scrivania io credo che molti di voi conoscono il dottor simone del nevo perché lavora da tanti anni con le imprese di parma non lavora soltanto a parma perché lavora per moltissime camere di commercio del centro del nord e quindi è un professionista molto conosciuto e molto esperto e noi lo ringraziamo vivamente di aver accettato di collaborare con la camera di commercio di parma allora oggi siete molto numerosi quindi abbiamo deciso che come dire le domande verranno scritte in chat cioè non si potrà alzare la domanda e alzare la mano e fare la domanda perché siamo tanti quindi voi scrivete tranquillamente le domande in chat e poi il dottor del nevo deciderà se rispondere nell'immediato se c'è congruenza con quanto sta dicendo oppure se rispondere alla fine del alla fine del webinar questo incontro di oggi è registrato quindi come dire ci sarà modo anche di dire anche modo di di rivederlo ecco riprenderò la parola poi alla fine per dire una cosa come dire di particolare interesse per le aziende che fanno i certificati di origine e a questo punto lascio la parola al dottor del levo grazie dottor del levo grazie a voi buon poveriggio a tutti direi possiamo iniziare subito questa nostra chiacchierata che verte sul mondo dell'origine merci quindi l'idea di passare queste tre ore a chiacchierare insieme quando dico chiacchierare per me vuol dire veramente anche interagire quindi vi invito fin da subito a se avete requisiti a porli via chat come è stato detto nell'apposita sezione in maniera tale che insomma se vedo delle domande pertinenti io posso darvi immediata soddisfazione io direi ovviamente vedo che già siete numerosissi forse non tutti tutti ancora li sono collegati proprio rispetto a chi è puntuale credo valga la pena davvero di iniziare la nostra chiacchierata allora abbiamo tre ore da passare insieme dedicheremo una prima parte della chiacchierata a quel fantastico mondo che viene chiamata origine non preferenziale faremo poi una piccola pausa a metà pomeriggio giusto per rifiatare per poi fare la seconda dedicare la seconda parte al tema dell'origine preferenziale delle merci so che molti di voi sono iscritti al ciclo di questi tre incontri quindi qualcuno di voi sarà presente oggi sarà presente anche nelle prossime puntate del 27 giugno del 3 luglio cercheremo di tenere gli argomenti distinti chiaramente qualche piccolo argomento si verrà ripetuto inevitabilmente durante i tre incontri perché alcune cose sono decisamente comune alle tre giornate però allora diciamo questo se noi vogliamo entrare nel mondo dell'origine delle merci il mondo dell'origine merci è un mondo sicuramente complicato molte delle aziende che sono partecipano non le conosco mai da tanti anni so che molti non siete certamente dei neofiti della materia per cui eh conoscete già a fondo tutte quelle che sono le problematiche eh che ci crea un mondo origine merci però oggi non possiamo dar per scondato nulla per cui alcuni concetti forse anche basilari penso sia giusto ovviamente riprenderli eh e riguardarli insieme allora io vi dico solamente questo oggi perché se tornerete la volta prossima vi annoierò a morte poi su questo concetto la volta seguente tutto il mondo dell'origine merci è fortemente impermiato sulla corretta attribuzione delle voci oganali sui castontari nomenclatura combinata HS code voce doganale volgarmente detta è un tema propedeutico a tutto il mondo dell'origine delle merci quindi è chiaro che tutto quello che io sto per raccontarvi nel bene nel male più male che bene eh verte su questa corretta attribuzione della voce oganale quindi se voi oggi siete qua con idee poche e confuse su quelle che sono le voci oganali che contraddistinguono i vostri prodotti rischio di crearvi ulteriore confusione quindi chi avesse dei dubbi sulla corretta attribuzione della voce oganale lo invito a presentarsi il 27 giugno dove invece dedicheremo tre ore quindi vi immaginate l'entusiasmo dei partecipanti alla fine corso tre ore al eh solo per capire quelli che sono gli strumenti che un'azienda deve conoscere per definire correttamente una voce oganale perché la voce oganale non è un dato innocuo la voce oganale è un dato assolutamente importante aziendalmente un dato che viene sottovalutato oserei dire aziendalmente un dato che per quelle che sono le mie esperienze di consulente aziendale che purtroppo ormai sono davvero di diversi anni ehm sono dati che si tramandano di generazione in generazione io penso che le voce oganali non sapete neanche dirmi chi la pensate in azienda perché l'avete trovata così si va avanti così e andrà avanti tutta la vita così fin tanto che qualcuno non mi dice sono sbagliate ora non è questa quindi la sede oggi per andare a discutere della bontà delle voce oganali che eh contraddistinguono i vostri prodotti la volta prossima per chi oserà presentarsi vi annoierò a morte invece su questo argomento oggi quindi ho inevitabilmente faccio finta che le voce oganali vostre siano corrette se noi facciamo diamo questa premessa che stiamo lavorando con tutte aziende oggi presenti con voce oganali pensate blindate studiate eh su cui non dubitiamo allora potremo fare dei ragionamenti seri potremo iniziare a fare dei ragionamenti su come un'azienda possa arrivare a gestire il suo mondo origine io vi rappresento subito quello che è il mio sogno attendere un sogno che spesso rimane tale ma che in alcune aziende può essere anche diventato già una realtà io credo che un'azienda che abbia una vocazione estera che sia import che sia export più export eh che import ehm deve avere un'anagrafica articolo nel proprio gestionale un'anagrafica fatta di descrizione articolo voce oganale guarda caso origine non preferenziale di cui parleremo tra pochi secondi e origine preferenziale di cui tendenzialmente parleremo dopo la pausa queste sono informazioni minimali che ogni azienda deve gestire nel proprio eh database nel proprio gestionale e ovviamente oggi siamo qui per cercare di capire poi come alimentare questi dati sul tema voce oganale vi rimando all'appuntamento il 27 giugno sull'origine non preferenziale ne parliamo adesso quindi ogni azienda deve conoscere l'origine merci per me la risposta è assolutamente sì eh ormai l'origine delle merci intesa come non preferenziale tra poco vi darò la definizione andremo a studiare le regole che un'azienda deve eh conoscere per eh battezzare l'origine delle proprie merci questa origine è richiesta sicuramente in un momento di export quando andiamo a vendere in paesi extracomunitari e spesso coinvolgete addirittura la camera di commercio perché in alcuni paesi viene richiesta l'emissione di un certificato di origine eh in camera di commercio mi viene richiesta in un contesto intraunionale nelle cessioni intracomunitarie non posso dirvi che sia un must un obbligo indicare l'origine delle merci nelle cessioni intracomunitarie inteso come emissione della fattura intracomunitaria però quando poi compierete la dichiarazione intrastat la famigerata dichiarazione intrastat in cui indogana della terri epilogare le cessioni intracomunitarie fatte c'è la colonnina nuova dal 2022 in cui per ogni riga dettaglio della cessione intracomunitaria sta da indicare l'origine come faccio a non metterlo se io non conosco l'origine non faccio l'intrastat è impossibile è un obbligo normativo eh quindi sta da fare e nel rapporto Italia su Italia potrei dire almeno io non dichiaro niente però potrebbe essere vero a meno che il mio cliente italiano non sia quello che compra le mie merci per esportarle per fare una cessione intracomunitaria però in quel caso allora spesso mi coinvolge e mi chiede dichiarazioni di origine eh e quindi eh rischio anche in un banale rapporto Italia su Italia di dover dichiarare l'origine merci sì la risposta è sì quindi ormai credo che siano poche le aziende italiane che possano chiamarsi fuori da un mondo origine dire che loro il sistema origine non li riguarda eh no ormai il tema origine riguarda praticamente tutte le aziende oggi noi ci concentreremo molto nella logica di essere venditore di essere esportatore di essere aziende italiane che vendono in realtà potremmo poi esplorare il mondo origine anche nell'essere importatori acquirenti eh aziende che fanno arrivare le merci da paesi extracomunitari sì ci sta anche questa di logica però è chiaro che nel ciclo attivo quando l'azienda vende eh l'azienda deve capire il mondo origine deve gestire il mondo origine quando invece siamo acquirenti importatori eh noi subiamo un po' di più il mondo origine eh saranno i nostri fornitori a raccontarci qualcosa evidentemente il tessuto delle aziende eh che sono presenti oggi si dividerà inevitabilmente tra aziende commerciali pure aziende che comprano e vendono tal quali le merci eh e in aziende produttive aziende che invece compro materie prime comprono semilavorati li lavorano li trasformano e ottengono un prodotto finito eh allora queste due sono due fatti specie molto diverse nella chiacchierata che eh faremo in questo pomeriggio noi insieme perché eh di fatto una ditta produttiva deve capire se il suo processo di lavorazione è tale alla alla forza di conferire origine ad un prodotto che non necessariamente è nato in Italia la ditta commerciale per definizione comprevende per definizione non trasforma per definizione non può conferire origine a nulla per cui la ditta commerciale baserà inevitabilmente tutto il suo sistema origine solo su dichiarazioni che provengono dal parco fornitori quindi dico che concettualmente la ditta commerciale è avvantaggiata anche se poi di facile non ci sarà nulla in questo nostro mondo però la ditta commerciale è avvantaggiata nella misura in cui non ha un processo produttivo non ha da gestire distinte base non ha da conoscere regole per conferire l'origine delle merci deve chiedere pretendere ottenere conservare rinnovare le dichiarazioni che provengono dal parco fornitori ve lo dico forse in un secondo vi ho fatto questa affermazione ma questa comunque può essere un'attività di anni da mettere in piedi per un'azienda sicuramente non è un'attività da giorni perché chiedere ai fornitori è facile ve lo dico io è facile chiedo se non ci vuole faccio la mailing list del parco fornitori chiedo ma tutti rispondono forse così bello il mondo sarebbe facile non sarebbe forse neanche qui a raccontarci come gestire l'origine merci il fatto che il fornitore non si sente neanche in obbligo di darmi questa informazione rende il gioco più o meno impossibile perché avrò un parco fornitori variegatissimo quello che dichiara tutti i giorni sono l'ennesimo cliente che chiede e mi risponde anche a me c'è il fornitore che non ha capito la domanda e glielo devo spiegare cosa gli sto chiedendo c'è il fornitore che ha capito la domanda per quello non mi vuole rispondere c'è il fornitore che l'ha capita talmente bene la domanda che mi dice ok ho capito cosa mi chiedi ma a mia volta sono un distributore a mia volta non sono un produttore aspetta che chieda al mio fornitore quando il fornitore dichiara a me io dichiarerò a te ma se finché il mio fornitore non mi dichiara nulla non so che dirti quindi non è che non voglio collaborare sono nella stessa impassa tuo perché sto aspettando dichiarazione fornitori quindi la logica della ditta commerciale soprattutto è quello di creare una catena di dichiarazione fatta di anelli ogni anello è un rapporto cliente fornitore salta un anello salta la catena salta l'informazione di origine noi ci racconteremo oggi in questo indimenticabile pomeriggio per voi perché se seguirete le mie istruzioni non sarete più gli stessi dopo oggi il che in questo mondo origine soprattutto questo tema che stiamo affrontando oggi dell'origine cosiddetta non preferenziale poi vi arriverò a far vedere anche delle slide che mi è un tema caldissimo su alcuni mercati meno caldo su altri mercati però nei mercati quelli che vi ho definito caldissimi per mercati che considero il l'origine non preferenziale una condizione del clearance una condizione dello sdoganamento una condizione dell'accesso al mercato o hai l'informazione di origine o te ne stai a casa tua non riesco proprio ad entrare nel mercato eh con questi ehm in assenza di queste informazioni quindi paesi che nominiamo sempre no in senso negativo dal punto di vista dell'origine sono l'Arabia Saudita il Kuwait l'Oman no tutti questi fasce di paesi dove o hai il certificato d'origine fatto bene o non ci vai perché è proprio una condizione della normativa di accesso al mercato poi abbiamo paesi come la Turchia il cui l'obbligo non c'è di fare il certificato d'origine però me lo chiedono lo stesso eh spesso me lo chiedono lo stesso e qui diventa un gioco commerciale eh non solo i 5 euro no del costo del eh servietto d'origine a camera di commercio che mi spaventano è tutta la gestione origine tutta la gestione dell'informazione che in alcune aziende può diventare molto molto oneroso quindi quello che ci tengo a dire che questo eh concetto di origine non preferenziale di cui stiamo solamente introducendo alcuni concetti per i comuni mortali viene comunemente definito il made in di un prodotto quindi dire il mio prodotto è made in Italy dire il mio prodotto è made in France made in China made in USA doganalmente si traduce nel dire ho una merce non preferenziale italiana non preferenziale francese non preferenziale cinese non preferenziale americana un termine che si creerà un sacco di problemi un sacco di problemi interpretativi sì la verità è assolutamente sì perché eh se noi introduciamo proprio questo tema dell'origine anche volendo mostrare delle slide che ehm ovviamente sto incartando ma ve le faccio vedere eh condividi schermo ok allora ehm l'origine non preferenziale merci ovviamente si divide tra eh cosa si divide tra l'origine non preferenziale di cui parliamo adesso origine preferenziale chiaro che in un italiano letterale sarebbe facile raggiungere a un'errata conclusione di dire vabbè allora la merce è o non è preferenziale è facile no sono due concetti molto diversi l'origine non preferenziale di cui stiamo trattando in questo momento è un concetto che nasce nel codice doganale dell'Unione Europea regolamento 952 del 2013 è entrato in vigore a maggio 2016 che replica il concetto che nasceva già nel vecchio codice doganale comunitario regolamento 2913 del 92 in questo concetto adesso lo sviscereremo insieme e quindi per evitare quell'equivoco di cadere nell'idea di dire una merce è o non è preferenziale punto io vi contrapporrei il concetto del made in come alternativa all'origine non preferenziale e allora lì cercheremo oggi di capire quando un prodotto è made in Italy, made in France, made in Germany o made in China e poi dopo la pausa parleremo dell'origine preferenziale UE che sarà un altro concetto, altro giro, altra corsa, altri documenti, altre normative, altro tutto, ha solo il nome simile ma ha implicazioni anche di carattere doganale completamente diversa l'origine preferenziale quindi quando parleremo di origine preferenziale ci racconteremo che è quel concetto che permette a talune merci che soddissino precisi requisiti di godere di un trattamento di preferenza indogana qual è il trattamento di preferenza per eccellenza che possa essere concesso mai una merce indogana? Lo sgrave daziario, l'abbattimento daziario, l'esenzione del dazio è bello e il concetto di origine preferenziale sarà spendibile solo con alcuni paesi del mondo, tanti eh, ma non tutti i paesi del mondo. Il made in invece che trattiamo adesso ha delle implicazioni doganali, sì, non solo doganali ma anche doganali sì. Allora di cosa stiamo parlando fondamentalmente? Vedete, il dire il mio prodotto è made in Italy, made in France o made in China, a cosa mi serve? Ci sono delle logiche legate a regimi di divieti, di contingentamenti, logiche esquisitamente doganali, logiche che quindi mi permettono di dire ho delle limitazioni, sì, perché alcuni prodotti originali di alcuni paesi non ci entrano nell'Unione Europea o non entrano in altri paesi del mondo, entrano contingentate e quindi entrano entro certi limiti. Tanto c'è qualcuno che rompe il ghiaccio già sulla chat, senza le domande poi in particolare più che chat, come lo definito erroneamente io. Cioè Silvia scrive, è possibile visto che ormai il dato origine è un dato richiesto sia a livello comunitario che extra comunitario, che si vada verso una regolamentazione comune ed omogenea, almeno a livello UE che riconosca l'obbligatorietà del dato a carico? Questo è il sogno che ormai stiamo pullando tutti, nel senso che la difficoltà evidentemente dell'esportatore è quello di scontrarsi con un parco fornitore non collaborativo, che si nasconda dietro il non obbligo normativo di dare questa informazione, perché oggi è così. Quindi il sogno della Silvia è, ok ma se lo rendesse obbligatorio non sarebbe meglio? E probabilmente sì, a questo punto io credo che prima o poi ci dovremmo rassegnare forse a un'obbligatorietà, perché alcune aziende si trovano oggettivamente nell'impossibilità di raggiungere certi mercati di fronte alle reticenze del proprio parco fornitori che non collabora. Questo è vero, però oggi lo lasciamo come sogno perché non è una realtà e non avrei neanche un fondamento per dirvi c'è un regolamento prossimo, di prossima emissione che possa rendere obbligatoria questa informazione. Quindi comunque questo tema dell'origine non preferenziale vi investe logiche di dazi antidumping, questo per un importatore non lavorato, cioè un dazi antidumping può colpire quelle merci di quel paese, quelle cinesi, quelle taiwanesi, quelle fatte, a volte sono anche soggettivi, che colpiscono un certo produttore, ma diciamo che in linea di massima il dazi antidumping colpisce, che so, le biciclette cinesi, le assi da stilo taiwanesi, il pezzo di ferro sempre di questi paesi, spesso del farista, cioè quei paesi che fanno dumping, cioè fanno prezzi sottocosto, sottocuotati, allora l'Unione Europea ritiene di dover intervenire con tutta una procedura, un iter molto particolare, in cui avverte gli importatori che sta per essere avviato un'indagine antidumping, che si includerà forse con l'introduzione di un dazi antidumping a volte temporanea, a volte definitivo, per ricondurre quel prezzo sottocuotato delle merci originarie, cioè tutti i paesi in ingresso nella UE ad un prezzo di mercato comunitario, ma lo fa l'Unione Europea, lo fanno gli Stati Uniti, lo fa chiunque, chiunque può introdurre un dazi antidumping. Il buon Trump a suo tempo ha messo 25% su tutti i prodotti cinesi, perché secondo lui, insomma, i cinesi fanno dumping, vendono finanziati dal paese Cina, hanno prezzi sottocosto. Un temone per gli importatori, ma anche per gli esportatori, l'etichettatura di origine, sul prodotto ce lo scrivo o non ce lo scrivo? Il made in Italy, made in France, made in China, ce lo devo scrivere o ce lo posso scrivere? È una domanda, paese che vai, legge che trovi. In alcuni paesi è un obbligo, un must all'inglese, non scelgo, devo, punto, ce lo devo scrivere, se non lo scrivo non entro. Nell'Unione Europea questo must non c'è, questo obbligo non sussiste, scelgo io, se scrivere non lo scrivo l'origine, ma attenzione, perché se da un lato mi dicono scegli liberamente il da farsi, lo scrivi, se lo scrivi lo scrivi giusto, naturalmente, ma ricordatevi che in Dogana, soprattutto la Dogana è di import, la Dogana è bellicosa, la Dogana è quella che fa le sanzioni, quella che controlla le merci, in import l'etichettatura di origine, pur non rendendo obbligatoria, perché la normativa europea non mi obbliga a indicare il made in di un prodotto, io posso commettere due gravi reati in Dogana, la falsa e la fallace indicazione di origine. La falsa, scrivo sul prodotto che so io Italy, su un prodotto che Italy non è, falsa dichiarazione, reato penale, sequestro delle merci, denuncia, silenzio alla Procura Repubblica, procedimento penale in corso, e non lo fa più nessuno di scrivere un'origine al posto di un altro, se non per errori clamorosi. Quello che viene contestato spesso oggi in Dogana non è la falsa indicazione, è la fallace indicazione di origine. Cosa si intende per fallace indicazione di origine? Udite udite, l'utilizzo di segni, figure o quant'altro, venga posto sul prodotto al fine di trarre in inganno al consumatore sull'effettivo origine della merce. Quindi non è più un Italy al posto di un altro paese, ma l'utilizzo del battistero di Parma come immagine, di un indirizzo parmigiano, di un qualcosa che richiami l'italianità di un prodotto, che italiano non è, è una fallace indicazione, e mi rissequesti le merci e potrebbero risegnalarmi la Procura Repubblica, sanzioni. Questo potrebbe diventare un temone in termini di made in legato all'import. Perdo un attimo le statistiche che in questa sede ci interessano davvero poco e proseguiamo la nostra chiacchierata, a questo punto andando a darci un riferimento normativo che peraltro avevo già frettolosamente accennato a voce. Questo origine non preferenziale nasce nel CDU, nel Codice Doganale Unionale. Il Codice Doganale Unionale è l'articolo 60 di questo regolamento 952 del 2013, che è poi entrato in vigore di faccio a maggio 2016, che cosa prevede? Vi dà delle definizioni, una definizione, una doppia definizione se vogliamo dirla tutta, nel senso che ci sarà una definizione per quelle che chiameranno essere le merci interamente ottenute in un certo paese e una definizione per noi molto più interessante, soprattutto per una dita produttiva, per quelle merci che vengono ottenute in un paese sì con il contributo di due o più paesi. Questo sarà il comma 2 dell'articolo 60. È chiaro che l'articolo 60, che stiamo per leggerci insieme, interessa una dita produttiva, non interessa la dita commerciale. La dita commerciale, l'abbiamo detto, non lavora e non trasforma, la dita commerciale, le regole per conferire l'origine, non la riguardano. Questo è un tema del mio fornitore, forse. Io dita commerciale chiedo a un fornitore qual è il made in e lui, se è un produttore, ragionerà secondo questo articolo 60. Se la sua volta lui non è un produttore, chiederà al suo fornitore, qualcuno a un certo punto, stamattina, se l'avrà pur fatta e chi ha realizzato il bene deve ragionare secondo i principi dell'articolo 60 del codice loganale, che è quello che ci leggiamo adesso insieme. L'articolo 60, comma 1 e comma 2. Comma 1 è per pochi eletti, noi ce lo diciamo subito. Comma 1 è un argomento che interessa poche fortunate realtà aziendali, no? Perché dico fortunate? Perché mi si dice che le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originali in tale paese o territorio. E grazie. Non c'era bisogno di nuovo di incontrarsi noi virtualmente qua oggi per capire questo articolo. Se sono l'azienda vitivinicola, è chiaro che ho l'uva fatta qua, raccolgo l'uva, faccio il vino e posso dire che il vino è made in Italy. Ci mancherebbe altro. Assolutamente sì. Quindi diciamo che il comma 1 è molto da regno animale, regno vegetale, regno estrattivo, dove le materie prime sono locali, qualunque cosa tu ci faccia è prodotto interamente ottenuto, dubbi non ce ne sono davvero. Però visto insomma i nomi delle aziende oggi iscritte, credo che i più siano da comma 2. Comma 2 vuol dire sostanzialmente che siete quelle aziende produttive, no? Classico macchinario per l'industria alimentare, oggi più che presente tra gli iscritti, ma non siete solo quel settore rappresentato oggi, però credo che a Parma va forte questo settore industriale. Mi dicono le merci, il macchinario, alla cui produzione contribuiscono due più paesi. Perché due più paesi? Perché quando vado a vedere la mia distinta base, quando vado ad esplodere il dettaglio di sintabase, mi accorgo forse che tutti i componenti semilavorati, materie prime che io ho messo in produzione per arrivare a realizzare il mio macchinario, hanno origini diverse. Quindi hanno contribuito più paesi? Inevitabilmente sì, perché effettivamente sono più le origini dei paesi coinvolti nel mio processo produttivo. Quindi ci sono, il comma 2 è il mio di azienda produttiva, quindi quando la produzione contribuiscono due o più paesi, sono considerate originari del paese o territorio in cui le macchine, prodotto finito, hanno subito l'ultima trasformazione a lavoro sostanziale, economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa tra le scopo, che si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante nel processo di fabbricazione e rifinzione, molto bella, bellissima, poco pratica, come sempre succede al Codice Doganale dell'Unione Europea. Il Codice Doganale ci detta principi bellissimi, generalisti, poco pratici, molto poco pratici, perché la posso rileggere 50 volte, ma al fine dico, ma allora cosa devo fare? Quando ho raggiunto la sostanzialità? Dov'è il punto X in cui se lavoro fino a lì ce l'ho fatta, se lì non arrivo non posso dire di avercela fatta? E il concetto che vedete io vi ho estrapolato in qualche modo sottolineandolo è devi fare una lavorazione, ma sì, ma non una banale lavorazione, devi fare una lavorazione che raggiunga almeno il livello della sostanzialità, che è tutto molto bello, ma ancora abbastanza fumoso. Quando una trasformazione sostanziale sì, quando una trasformazione sostanziale no, è dura, è anche abbastanza soggettivo. Io potrei interpretare a modo vivo che una trasformazione per me è importante e quindi sostanziale, qualcuno vedendo il processo produttivo dice ma non ci pensare neanche, questa lavorazione non ha nulla di sostanziale. Allora qual è il concetto che si può estrapolare? Devi fare un prodotto nuovo, cioè il processo produttivo deve portare a conclusione il risultato di aver ottenuto un prodotto nuovo, un prodotto diverso, un prodotto che aveva caratteristiche che non possedeva prima del mio intervento. Questo sicuramente è un primo indice, chiamiamolo indice, non ho certo risolto tutti i vostri dubbi, i vostri problemi, non era questa la slide con cui volevo risolvere i vostri dubbi, stiamo solo introducendo un concetto che adesso dovremo andare a sviscerare nelle sue componenti pratiche perché a me piace essere pratico, non credo che vi serva la teoria in questi nostri webinar, mi piace che voi usciate di qua con le idee più chiare di cosa andare a leggere, di cosa andare a consultare, di cosa andare ad applicare nel vostro quotidiano per poter poi serenamente dire sì ce l'ho fatta, allora ho una regola di riferimento, l'ho rispettata, bingo, la mia merce ha assunto una determinata origine. Allora per cercare per adesso ancora un attimo ridare delle definizioni ma vi assicuro che se avrete pazienza tra pochi minuti andremo a fare casi reali, pratici e concreti, anzi vi invito fin da subito se qualcuno avesse piacere, se avete tra le mani qualche voce doganale dei vostri prodotti, non so se per caso qualcuno si è tatuato una voce doganale e ce l'ha pronta, se volete scrivere una sezione di domande qualche voce doganale, magari non le faremo tutte perché scrivete tutti, 145 voce doganale, non le guardiamo tutte sicuro, però se qualcuno se l'avesse rapidamente a disposizione poi potremmo fare degli esempi reali con le vostre voce doganale senza che, vedo che qualcuno ha già accolto con entusiasmo la richiesta e qualche voce doganale è già apparsa magicamente nella sezione di domande, tanto ringrazio la signora Barbara, signora Michela che prontissimamente sono intervenute. Ok, quindi partiremo da voi per fare degli esempi reali, concreti, capire come ci si deve muovere aziendalmente per andare a definire il made in del vostro prodotto. Allora, però rimaniamo un attimo su alcune definizioni, allora alcune definizioni che ci vengono in aiuto, definizioni anche se vecchie della Corte di Giustizia, ancora estremamente attuali. Mi dicono, affinché si possa parlare di una trasformazione sostanziale, il prodotto che risulti a fine processo produttivo, il macchinario, chissà cos'altro, state facendo di bello, deve avere composizioni, proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sdopposto a tale trasformazione e lavorazione. Quindi mi dico, devi fare un prodotto nuovo, ricordate, no? Poco fa dicevo un prodotto nuovo, un prodotto che considero nuovo quando? Quando posso dire nuovo e non ha le caratteristiche vecchie? Quando fa cose diverse, proprietà specifiche, che sono maturate grazie al mio intervento. Allora, attenzione, un indice, perché per adesso io ve lo elevo solo a livello di indice, ma in alcuni casi diventerà addirittura una prova schiacciante, ma non per tutti, ma diciamo che un indice universalmente riconosciuto dal punto di vista doganale per stabilire se il prodotto che risulti a fine processo produttivo sia nuovo, sia diverso da quello che era in precedenza, è il criterio del salto di classifica doganale, salto di voce doganale. Quindi la logica è quella di avere un prodotto che abbia una classifica doganale, riguardate di cosa parliamo? Delle voci doganali, no? Questo che sarà un incubo ricorrente in questo nostro corso, eh? Se farete tutti e tre le mezza giornate, voi avrete gli incubi delle voci doganali, ve lo dico io, perché torneranno sempre pesantemente tra i piedi. Quindi il confronto, quando si dice il salto di voce doganale, vuol dire il confronto tra le prime quattro cifre, quasi sempre la voce doganale, non è una verità assoluta, però se prendessimo l'esempio così, concettuale, pura fantasia, poi andiamo a vedere regole più specifiche, se la barba mi dice che fa 1, 84, 22, 44, 00 come voce doganale prodotto finito, il linea di principio, stando a questa slide, consiglio a Sanna Barba di non prendere ancora questa regola come sua regola, stando a questa slide, dovrebbe dire che se produce 84, 22, non dovrebbe avere nella sua distinta base, nella sua distinta produzione, nulla che sia già 84, 22, o meglio, 84, 22, se la posso pure avere nella distinta base, basta che non sia, cioè basta che sia, scusate, basta che sia Italy, cioè se parto da un prodotto 84, 22 Italy, lo lavoro in Italia, rimane 84, 22, rimane made in Italy. Il tema è se avessi nella mia distinta base dei prodotti classificati 84, 22, che Italy non sono, il lavoro di trasformo rimane 84, 22, e voi potreste dirmi, per me è una lavorazione sostanziale importante. Io inizio a dubitarlo invece che sia così importante, perché evidentemente se la classifica doganale non mi ha permesso di cambiare il capitolo 84, il sottocapitolo 84, 22, probabilmente stiamo parlando di un prodotto che ha fondamentalmente le stesse caratteristiche, quindi su questo attenzione, perché potrebbe essere un indice, quindi per adesso prendetelo assolutamente come indice, perché non è una verità assoluta per tutti. Adesso quando andremo a esplorare le varie voci doganali che avete cortesemente scritto nella sezione domande, andremo a fare dei ragionamenti un po' più sofisticati, andremo a capire quali sono le regole un po' più precise, poi puntuali, che dovrete andare a rispettare per dire sì, ce l'ho fatta, ho raggiunto l'obiettivo. Quindi qualcuno giustamente è iniziato a scrivere le voci doganali a quattro cifre, visto che vi ho raccontato che poi in realtà molto spesso l'attenzione si pone solo sulle prime quattro cifre. Ok, adesso le voci doganali direi che ne abbiamo per divertirci a lungo e forse poi c'è anche qualche domanda che non è più una, ve ne so scordate sul lato scrivendo perché poi quando devo fare gli esempi, se no devo aprire e chiudere la chat continuamente. Tanto se una leda sta scrivendo quello che non è più una voce doganali ma una domanda, mi scusi, se ho un macchinario già esistente da revisionare, non da modificare al momento della consegna del fine lavoro, vendica all'origine la merce sulla bolla fattura di consegna, ecco dipende dove va, nel senso che in un rapporto Italia su Italia ovviamente nulla è dovuto. Se va in un paese extracomunitario c'è il rischio che questa sia un'informazione comunque richiesta non tanto sulla bolla quanto sulla fattura perché quando andiamo in extra way è sicuramente la fattura quella che comanda. Ok, tanto me l'ho già scritta nella voce canale però la signora Alessandra mi ha detto che l'ho scritta male quindi devo modificarla. 34 05 90 90 ok, adesso credo che non riusciremo a vederle tutte queste voce canali per cui credo che sia se non riesco neanche a scriverle più tutte, non neanche più posta né foglio, quindi va bene, scrivo le ultimissime che ci sono ma dubito che avremo il tempo di fare tutti questi esempi. Ok, quindi giustamente vedo che tutti avete scritto voce canale a 4-8 cifre, nessuno si è spinto alle 10 cifre ed è giusto perché per me le 10 cifre sono una tipica voce canale da import, noi qui stiamo ragionando più nell'essere degli esportatori e in questa fase almeno siamo più su questo tipo di ragionamento. Allora, superato il concetto della Corte di Giustizia, vi ho già detto che il codice doganale è ad altissimi livelli, il codice doganale mi detta delle definizioni, definizioni tutte molto belle ma definizioni molto poco pratiche. Allora, per cercare di rendere un po' più pratico quello che è il concetto del codice doganale viene in aiuto il regolamento 2446 2015 che è una sorta di regolamento attuativo del codice, c'è un articolo 31 che va a commentare l'articolo 60,1, cerca di spiegarmi quando una merce che abbiamo definito interamente ottenuta possa considerarsi tale e vedete mi fa esempi quasi tutti riconducibili al regno animale, al regno vegetale, al regno estrattivo, a un regno che credo non vi rappresenti come azienda, a meno per quello che ho visto dei nomi delle aziende iscritte, non credo siano questi i casi di vostro interesse, così dalla faccia ma non vi vedo, perché non vedo nessuno di voi, direi che siete tutti da comma 2, siete tutte aziende che o perché commercializzate o perché producete avete delle merci che sono comunque realizzate con più materie prime provenienti da paesi diversi del mondo, anche perché l'Italia ha un difettuccio tra i tanti di non avere materie prime, quindi è facile che nel vostro processo produttivo direttamente o indirettamente siano finite delle materie prime inevitabilmente non itali e quindi la logica che noi dobbiamo andare a capire a questo punto che cosa si racconta nell'articolo 32 del codice, cioè del regolamento attuativo del codice, questo regolamento 2446. Quindi questo regolamento 2446 2015 come parte, come recita, merci di produzione contribuiscono due o più paesi e territori, commentando l'articolo 60,2 di fatto inizia a darmi un riferimento molto preciso, molto preciso che dovremmo andare a consultare noi insieme, con grandi delusioni ve lo anticipo, ma dovremmo fare questo passaggio, perché mi viene scritto, l'ho riportato fedelmente come estrazione dall'articolo 32 del regolamento 2446. Si considera che le merci di cui è allegato 2201 abbiano subito l'ultima trasformazione in lavorazione sostanziale, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo, che rappresenti una fase importante della fabbricazione nel paese e territorio in cui le norme contenute in tale allegato siano soddisfatte. Allora, la logica mi sta dicendo, tu che sei la ditta produttiva, tu che vuoi capire se il tuo processo di lavorazione lo puoi o meno definire sostanziale, ma dove vai a cercarti queste regole, visto che l'articolo 60 è rimasto molto fumoso, molto sui generis? Allora mi dicono, lo leggete voi stessi, leggiti l'allegato 2201 di questo regolamento 2446. Allora, noi direi a questo punto non ci resta che andare a consultare l'allegato 2201 e l'allegato 2201 come lo consulteremo? Udite, udite, voce doganale per voce doganale, per questo che vi ho chiesto le voce doganali, perché ognuno di voi dovrà andare a scaricarsi l'allegato 2201, andare a consultarselo partendo dalla voce doganale prodotto finito. Questa sarà la logica di ogni ditta produttiva, non della commerciale, la commerciale dell'allegato 2201 non lo deve neanche guardare col canocchiale, la commerciale chiede, pretende, ottiene, dichiarazione ai fornitori. I fornitori mi dice Italy e dico Italy anch'io, mi dice France e dico France, nulla mi dici, panico, perché non esiste la polide, non esiste la merce senza origine, non può esistere e quindi devo convincere il fornitore a rispondermi con tutte le armi commerciali che questo io posso avere in qualità di ufficio acquisti, chiedo e impongo ai miei fornitori di farmi delle dichiarazioni, commercialmente parlando non normativamente parlando perché il fornitore può dirmi non c'è scritto che ti debba dire, non ho l'obbligo di dirti, quindi a posto così. È chiaro che io sono il cliente, ho almeno la fortuna di essere il cliente, il cliente in una logica commerciale può aver sempre ragione, per cui chiedo insistentemente finché non venga accontentato. Però è chiaro che voi come dite commerciali vi scontrate con un parco fornitori più o meno variegato? Assolutamente sì, un parco fornitori che può essere fatto di aziende più piccole di voi, più grandi di voi, pari livello voi, dove con i clienti, scusate, con i fornitori un po' più piccoli e pari grado posso forse fare la voce grossa dicendo guarda che sono cliente, mi devi dire perché se non mi dici l'origine ti faccio fuori dal parco fornitori. Con il fornitore più grosso di voi è più imbarazzante la situazione perché non mi devi dire, ti chiedo cortesemente di dirmi caro fornitore, faccio i nomi a caso, ma conosciuti, ma se io andassi da una Siemens, per fare un nome che conosciamo tutti, e dicessi io sono del Neo SRL, noto esportatore italiano, dico alla Siemens mi devi dire, la Siemens dice tu chi sei? Eh del Neo SRL, grande esportatore italiano, ok, ma io a te non devo niente, sei tu che mi chiedi cortesemente, se voglio ti rispondo, e se non ti rispondo che mi fai a me Siemens, eh non compro più niente, eh non comprare più niente, sei una briciola del mio mare Siemens, che per farvi un esempio concreto la Siemens non è un'azienda che non dichiara, eh non sto dicendo questo, la Siemens che ho conosciuto più volte dichiara quando vogliono loro, e lo dichiarano quando hanno l'oggetto in mano, perché avendo più stabilimenti produttivi non è che non vogliono collaborare, non è che non mi vogliono dire l'origine a priori, non lo sanno davvero, perché quando avranno l'oggetto in mano lo sapranno in quel momento qual è lo stabilimento del mondo che si è attivato, e puntualmente mi diranno l'origine, ma io la volevo a lungo termine la dichiarazione, trovati un'altra Siemens, cioè mi rispondono trovati un'altra Siemens, se vuoi un prodotto della qualità Siemens, noi lavoriamo così, ti va bene, bene, non ti va bene trovati un'alternativa, se la trovi, e non ci posso fare niente, sono in grande difficoltà, quando io sono più piccolo del mio fornitore, quando io sono grosso cliente, è chiaro che i giochi cambiano, la vita commerciale chiede, pretende, ottiene, e riesce insomma a far lavorare i fornitori secondo il proprio modus operandi di cliente, assolutamente sì, ma se è vero ed è vero che la commerciale dipende in toto dal parco fornitori, la ditta produttiva, anche lei ha bisogno del parco fornitori, la ditta produttiva, adesso noi andremo a leggersi l'allegato in 201, andremo a cercarci regole di made in, adesso ho tolto io la condivisione, non vi preoccupate, andremo a cercarci regole di origine che dovremmo applicare nel nostro parco fornitori, ma per applicare in qualche modo le regole di origine, noi dovremmo avere le informazioni precise, puntuali di quelle che sono le origini di tutte le materie prime, tutti i similavorati, tutti i componenti che sono andati nel ciclo produttivo, forse non di tutti, perché la verità vera è che forse non sarà di tutti tutti tutti, però sicuramente di molti fornitori dovremmo sicuramente assolutamente chiedere. E allora anche la nostra ditta produttiva non esce dallo schema di dover chiedere a molti, quantomeno a molti fornitori, il creazione di origine. Sì, assolutamente sì, la logica è assolutamente questa. Allora, quindi il rapporto cliente-fornitore rappresenterà una parte importante della nostra chiacchierata, assolutamente sì, anche perché voi potreste essere i clienti e i fornitori e quindi inevitabilmente ci sarà da dover chiarire bene i limiti di quelli che sono gli obblighi di uno e gli obblighi della controparte eventualmente. Ok, allora andiamoselo a leggere, io mentre stiamo parlando, sto cercando frettolosamente di recuperare l'allegato 22.01, quando qui qualcuno continua ad aggiungere voci doganali, nel limite del possibile cercheremo di accontentare un po' tutti, ma inizio a dubitare il quantitativo che avete rasmesso di nomenclature. Ok, adesso io vado a mostrarvi l'allegato 22.01, che abbiamo capito essere la nostra fonte normativa per eccellenza. È giusto dirlo, è giusto ribadirlo, l'allegato 22.01 è un allegato di un regolamento comunitario, quindi è un regolamento comunitario, quindi è legge a tutti gli effetti. Quindi condividiamolo questa volta lo schermo, qua, condividi, ce l'abbiamo, ok. Allora, questo che stiamo vedendo penso tutti insieme, perché abbiamo attivato la condivisione, è intitolato note introduttive ed elenco delle lavorazioni e trasformazioni che conferiscono un'origine non preferenziale. Bingo, è il nostro, no? È quello che cerchiamo noi, stiamo cercando di capire se noi facciamo una lavorazione, cerchiamo di capire quando la lavorazione è in grado di conferire origine. Adesso io non vi ho mostrato, ma se volete poi ve lo mostrerò, un elenco di lavorazioni che sono sempre inidone, sempre insufficienti, mai sostanziali. Il codice si perde anche in questo particolare, cioè mi va a raccontare alcune lavorazioni dicendo guarda che se tu ti limitassi a fare il cambio d'estetica, il cambio di imballaggio, il pick and pack, il riconfezionamento, attività meramente estetica, attività di conservazione del prodotto, vai tranquillo, l'origine, non la conferisci mai. Questo è quello che mi dice il codice doganale. Quindi se secondo me è facile capire quello che non conferisce origine, inteso solo come made in, stiamo parlando solo di questo in questa fase, è più difficile capire quando una lavorazione sia tale invece da conferire l'origine. E la legata del 2001 è il nostro, è quello che dobbiamo leggersi insieme noi, no? Allora di cosa stiamo parlando? È un allegato che inizia a darmi delle definizioni, bellissime, per dormire la sera vi consiglio questa lettura, dormirete con piacere, inizia a dirmi cos'è un materiale, cos'è un materiale originario, cos'è un materiale non originario, cos'è un prodotto. Tutte le definizioni, per carità, mi permetto di scherzare, ma estremamente utili, ma lette così lasciano il tempo che trova. Sono parole che invece noi troveremo, e ci tornerà comodo, conosce nel significato, quando leggeremo le regole di origine di ognuno di voi. Per qualcuno potrebbe dire, ah ho usato la parola materiale originario, ora cosa si intende esattamente per un materiale originario? E andiamocelo a rivedere nel caso. Troveremo in molti prodotti, perché vedo che molti di voi giustamente, come immaginavo, mi citano capitoli 84, pochi forse oggi, forse n'è addirittura a nessuno, capitolo 85, però capitolo 84, da tutte le voi segnali che avete segnalato, va per la maggiore. Capitolo 84 ricorrerà spesso, non sempre, la regola del valore aggiunto. La regola del valore aggiunto che qui viene spiegata, adesso io mi permetto di saltarvela come definizione, come ho fatto con le definizioni che hanno preceduta, però poi se vorremmo andare a capirla è meglio, io ricordo di spiegarvi la parola senza leggere tutto per sicuramente quello che c'è scritto, però sarà una regola importantissima per le aziende industriali, per le aziende produttive del capitolo 84, sarà una regola che ricorrerà spesso. La confezione completa invece è una regola che troveremo legata al mondo tessile, che però ho visto apparire, perché qualcuno a un certo punto, tra le voce che ho segnalato, ha parlato di un 6203, 6203 è chiaramente un prodotto tessile e quindi potremmo andare a capire se la voce del canale 6203 richiedesse una confezione completa, perché adesso a memoria onestamente non le so tutte le regole, andremo eventualmente a recuperarsi la definizione di cosa vuol dire fare una lavorazione che raggiunga la confezione completa e quindi lo vedremo. E niente, quindi salterei quella parte così introduttiva, qui c'è un glossario dei più ermetici della storia, perché le regole di origine che noi andremo a leggere consultando il legato 201 saranno espresse proprio così, cc, cth, ctsh, cths, ctshs, chiamolo vuol dire questa definizione, ogni volta ce l'andremo eventualmente a riprendere e a commentare insieme. A questo punto non ci ferma più nessuno, ci avventuriamo una strada senza ritorno nell'allegato 2201, perché è finita la parte introduttiva, adesso inseriamo nella fase operativa, nella fase della ditta produttiva, nella fase in cui ognuno di voi inizia a ragionare dicendo ma che cosa ho prodotto? Voce doganale. Voce doganale alla mano, scorriamocelo a questo allegato 2201. Allora, qui so che qualcuno adesso ho aggiunto ulteriori voci doganali e quindi se riesco me ne segno ancora qualcuno, ma giusto per avere un, insomma, se abbiamo degli esempi preferisco fare i vostri esempi piuttosto che parlare magari di prodotti che non interessano assolutamente a nessuno dei presenti. Una quarta 31, ok, penso di averle più o meno scritte tutte, più o meno, eh. Ok, va bene. Allora, la costruzione inizia un po' a sorpresa, inizia subito con l'effetto sorpresa. Qua, animali vivi, capitolo 2. Se qualcuno di voi non si è addormentato in questo pomeriggio poco entusiasmante con cui vi sto annoiando io, avrà subito un sussulto, perché, perché capitolo 2, non c'è il capitolo 1, la risposta è vero, non c'è. E come mai non c'è? Ma mistero, un grosso mistero. Quindi qui a sorpresa si parte col capitolo 2, quindi chi producesse, ma nessuno di voi me l'ha detto, dei 0201, dei 0202, dei 0203, ma è inutile che ci perdiamo sugli animali vivi in questa sede perché non interessa a nessuno, ma se producessi questo prodotto sarebbe facile, perché la regola primaria della trasformazione sostanziale l'avrei già individuata. Mi dicono che dovrei rispettare una condizione di lavorazione e trasformazione che soddisfi questa colonna 3. Peccato che non interessa a nessuno, capitolo 2. Allora, vado avanti, capitolo 4. A qualcuno dice che stavolta non mi frega, mancava l'1, manca anche il 3. Vero. Perché? Non lo so, non c'è. Quindi quello che sta subito emergendo in maniera prepotente, che questo allegato 2201, che ci hanno spacciato come fonte normativa per eccellenza, per andare a definire le regole trasformazione sostanziali, è lacunoso, molto lacunoso, lo dico io. A di là del fatto che lo 03 non interessa a nessuno, ma se fosse un'azienda che produce beni del 03, mi manca la fonte normativa, assolutamente sì. Quindi abbiamo dei grossi problemi sulla gestione di questo allegato, che prosegue sempre peggio per la verità. Perché capitolo 4, capitolo 9, e 5, 6, 7, 8, e non ci sono neanche loro. Alla fazza del buco, qui iniziano ad essersi delle voragini. Fortuna vuole che nessuno di voi mi abbia parlato di questi capitoli a tariffa doganale, quindi vado avanti ancora abbastanza bene, abbastanza fiuscito, manchino i capitoli, chi se ne frega, in questa sede nostra. Poi vi dirò invece, chi manca i capitoli, cosa fare? Capitolo 9, capitolo 14, e vai di buco. Quindi, ora, per quel che ho visto nelle voci doganali che mi avete segnalato, a di là che manchino tutte queste prime, credo che le prime voci doganali di riferimento siano dei 34, tra tutte quelle che mi avete scritto in chat fino adesso. No, invece è arrivato il 15 sul gong, qualcuno? San Roberto ha scritto il 1509 in questo momento, 14, un capitolo 15, che non c'è. Quindi abbiamo già colpito e affondato un caso che ci ha proposto poco fa la signora Roberta, abbiamo un problema. Sì, perché il 1509 non c'è e quindi adesso la signora Roberta deve starci ad ascoltare ancora qualche minuto perché dovremmo trovare una soluzione alternativa, perché se non c'è, dobbiamo trovare delle regole e non sono queste le regole. Qui però c'era forse una domanda in mezzo alle varie, un bucino canale che state comunque ormai prendendoci la mano e comunicandoci. Saramarica scrive, buongiorno, noi commercializziamo bicchieri decorati, la nostra lavorazione non è sufficiente a modificare origine, perché se è vero che fanno la decorazione soltanto, è molto probabile che sia davvero così. Per cui l'origine che noi dichiariamo è quella che a sua volta è stata dichiarata dal fornitore del bicchiere, immagino. Trattandosi principalmente di fornitori comunitari, ci facciamo rilasciare long term attestante l'origine preferenziale e questo a me va bene, è finito l'origine preferenziale senza dubbio, ma non abbiamo nulla detto ancora su questo argomento. A volte succede che qualche cliente invece di chiedere dichiarazioni di origine mensal, ci chiede dichiarazioni di made in. E sono due mondi separati, due esigenze separate, perché non l'ho ancora detto, ma lo dico subito. Una merce può essere made in Italy, sì, e essere contemporaneamente o non essere preferenziale UE. Siccome le regole sono diverse, le condizioni soddisfarie sono differenti, non è automatico che una merce made in Italy sia preferenziale UE. Quindi io vi dico solo che per me è veramente automatico una merce made in extra UE. Non mi pongo la domanda preferenziale sì o no, di cui parleremo, perché se è made in extra UE non ha caratteristiche per essere definita preferenziale UE, ma un prodotto made in Italy la domanda è ancora aperta, sarà preferenziale UE sì o no? Ok, adesso quando arriva le domande mi si sposta. A volte succede che qualche cliente si richiede ricreazione di made in. Come ci dobbiamo regolare? Premesso che non avete l'obbligo di dichiarare nulla, perché l'abbiamo detto, se siete voi fornitori non avete l'obbligo, è chiaro che poi io invece sono pro cliente, faccio di tutto per aiutare quel cliente, no? E quindi se il fornitore mi ha detto la mia merce preferenziale UE, il mio fornitore mi ha detto questo, il cliente dice ma è made in? Non lo so, la risposta è non lo so. Potrei dire un made in UE, sì, dichiarazione generica che non soddisfa quasi mai il cliente, perché il made in è Italy, France, Germany, Spain, China, paesi singolarmente intesi. Quindi o non dichiaro o torno alla carica del fornitore dicendo che è che mi ha detto l'origine preferenziale? Grazie, gentilissimo, ma mi racconti anche il made in del prodotto? Qual è? Perché il preferenziale UE può essere fatto in Romania, in Italia e in Bulgaria indifferentemente. E quindi sì, la risposta si è andata già da sola, se una marica non è arrivata a leggere l'ultima riga, dobbiamo chiedere un'ultima dichiarazione al fornitore? Sì, a meno che nella long-term declaration questo non mi dica merce, originale UE, barra France. Ebbene, ora già mi sta dicendo forse che con France volevi intendere il made in Francia, no? Allora questo potrebbe anche starci. Allora, signora Francesca si mette una voce doganale di un tessile, adesso il tessile non ha niente di facile, quindi adesso dovremmo andare a ragionare per bene sul mondo tessile, perché se c'è un mondo temuto dal punto di vista delle voci doganali è sicuramente il mondo tessile, non c'è dubbio. Quindi adesso segniamo anche queste voci doganali del tessile che sono un po' più particolari rispetto alle altre. Poi veramente non pensavo che foste tutti così preparati con le voci doganali, ma se lo avete tutti, a questo punto dopo un avvio timido vedo che vi siete scatenati con le varie voci doganali, quindi io, me ne scuso fin da subito, andrò in maniera un po' random a parlare dei vostri casi perché non riusciremo certamente a vederli tutti. Ok, continuo a segnarmene qualcuna. C'è ad esempio un 0305 che anche lì abbiamo già visto, non c'è la regola di origine. Un 1604. Ok, adesso non riesco a segnarle tutte, chiedo scusa a tutti i partecipanti. Si può avere un esempio pragmatico di quando una merce è made in Italy ma non preferenziale ma assolutamente sì. La volete subito, vi rovinano al pomeriggio subito, la volete a fine serata, ve lo racconto a fine serata, però se volete un esempio che così non scontento nessuno, un esempio di una voce doganali che qua non avete segnato nessuno, 84-81, voce doganali, valvola. Allora, una valvola è lecitamente made in Italy quando? Quando faccio una lavorazione sostanziale. Se io leggessi questo allegato, trovo il capitolo 84, ve lo anticipo, non trovo l'84-81, vado a vedermi un'altra fonte normativa che tra poco vi racconterò e mi diranno che una valvola è definibile made in Italy nella misura in cui subisce un salto di voce doganale, un cambio di una delle prime quattro cifre alla voce doganale. Allora vado a vedere la medicina base, vado a vedere che cosa ho messo in produzione, componenti, materie prime, semilavorati che arrivano dal mondo indistintamente inteso, nessuno 84-81, perché alcuni sono pezzi di ferro, alcuni sono pezzi di plastica, alcune sono altre cose ma non sono 84-81, li lavoro, li trasformo, ottengo 84-81, prodotto finito. Ho fatto il salto tarifario? Sì. Ho soddisfatto la condizione primaria di trasformazione sostanziale? Sì. Bingo. È made in Italy. Peccato che io sto andando magari in Svizzera, peccato che sto andando in un paese accordista, peccato che il cliente vi chieda, bello il made in Italy, mi piace molto il made in Italy, ma io voglio anche non pagare il dazio, voglio sapere se quella merce nel contempo, oltre ad essere un made in Italy, è anche preferenziale UE. Allora vedremo, dopo la pausa, io per definire se una merce è preferenziale UE, devo andarmi a studiare non le regole della legato di 2001 come sto facendo adesso, devo andarmi a vedere le regole paese per paese di destino. Ma dove vai? In Svizzera? Allora guardati l'accordo panneuro-mediterraneo e nell'accordo panneuro-mediterraneo cosa vado a trovare? Vado a trovarmi, a cercarmi quelle che sono le regole per la voce doganale 84-81, ok? Che cosa mi dice? Insomma regole vere che vi sto raccontando. Nell'accordo panneuro-mediterraneo che è un mega accordo in cui fa parte anche la Svizzera, l'Unione Europea con la Svizzera, mi diranno che una valvola per essere definita di origine preferenziale UE deve subire una lavorazione sufficiente. Sufficiente a cosa? Sufficiente a soddisfare la condizione imposta nell'accordo UE panneuro-mediterraneo e per una valvola mi racconteranno ad esempio che una valvola è licitamente definibile preferenziale UE, subisce un processo di lavorazione tale per cui l'incidenza del costo di acquisto dei componenti extra UE messi in produzione non superi il 30% del prezzo di vendita francofabbe. Posto quindi che io la valvola l'avendo a 100 vado a esplodere la medicinità base, voglio dire ogni singolo componente come è nato se preferenziale UE sì o no e chi me lo dice? Il fornitore a cui ho chiesto, ho preteso, ho ottenuto dichiarazioni di origine preferenziale, anche sarà chi mi dice sì, chi mi dice no, chi mi dice no, chi mi dice sì, sommo i no dei componenti se l'incidenza del costo totale dei componenti che i miei fornitori mi hanno definito preferenziali no, super al 30% la mia valvola non è preferenziale UE, questo mina il made in Italy? No, rimane made in Italy ma nel contempo non è preferenziale UE, se invece Fortuna vuole che l'incidenza dei componenti extra UE rimane ancorata sotto al 30% la valvola è made in Italy e nel contempo rimane preferenziale UE. Non so se ho risposto in maniera esaustiva all'azienda che mi ha chiesto l'esempio puntuale, spero di sì, se non fosse sufficientemente chiaro ovviamente ci riproviamo anche più tardi, non è un problema assolutamente riprovarci a fornire risposta, dunque spero di aver dato un'idea. ok, se la Elena stai dicendo potrebbe ripetere il concetto di made in origine preferenziale? Allora sì, il made in di cui parliamo adesso cerca banalmente il luogo geografico fisico dove il bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, questo è il made in. Dire made in Italy sto dicendo che il prodotto l'ho fatto o interamente in Italia con materie prime italiane o l'ho lavorato in Italia, seppur combattere prime e non italiane. E ho raggiunto una soglia importante di trasformazione che è quella che stiamo cercando disperatamente di leggerci insieme con questo legato di 201. E si lega a livello documentale il made in alla possibilità di scrivere sulla fattura country of origin Italy, made in Italy, andare in camera di commercio e chiedere un cervello di origine Italy. Questi sono tutto il mondo del made in o origine non preferenziale che dir si voglia come lo stiamo definendo noi dal punto di vista doganale perché il codice doganale purtroppo la chiama origine non preferenziale. L'origine preferenziale di cui parleremo dopo e ci metterò volutamente la pausa tra un argomento e l'altro è invece quel concetto che permetterà alle merci che subiscono nell'Unione Europea l'ultima trasformazione sufficiente, permetterà di godere di uno sgrave d'aziale destino. È un tema squisitamente doganale l'origine preferenziale. Mentre il made in ha anche implicazioni doganali, ma non solo doganali, l'origine preferenziale ha esclusivamente implicazioni doganali. L'origine preferenziale nasce e muore in dogana, uscite dai panni dipendenti di azienda. Il made in lo percepite e come? Quando andate a comprare un oggetto made in Italy, made in China, uno può gradire quello che vuole ma avete una percezione della qualità soggettiva ma diversa. L'origine preferenziale, un comune mortale, non l'ha mai sentita nominare perché nell'oggetto sulla bancarella mica c'è scritto merce di origine preferenziale ue, nasce e muore in dogana. Però doganalmente è un concetto interessantissimo perché è quello che permette lo sgrave d'aziale, l'abbattimento, l'esenzione d'aziale. Assolutamente. Quindi sono temi diversi, con implicazioni diverse, fonti normative alla base diverse, completamente diverse, documenti a corredo diversi perché noi ci racconteremo dopo la pausa che per attestare l'origine preferenziale io darò il mandato allo spedizionario per fare un euro 1, avrò assunto l'autorizzazione Rex in dogana, avrò assunto lo status esportatore autorizzato in dogana per poterlo scrivere sulle fatture che la mia merce preferenziale ue. Sono concetti molto diversi, forse ancora non chiari, me ne scuso, la signora Elena, io spero che sia più chiaro alle 5 e mezza tra due ore perché se non ho chiarito questo aspetto ho clamorosamente fallito l'obiettivo del nostro webinar, ma me ne assumo la piena responsabilità perché se non è chiaro vuol dire che non sono stato chiaro io nell'esposizione, quindi spero tra poco di poterlo rendere un po' più chiaro. C'è una manica che nel frattempo mi scrive, ho controllato alcune long-term dei nostri fornitori, indicano che la merce è prodotta in Italia o Spagna, eccetera, sono discusate di origine avanzale con la lista dei paesi. In questo caso allora posso considerare queste dichiarazioni valide anche nel caso mi chiede dichiarazioni made in. Sì, per me la lettura che viene data a questa long-term declaration in cui il fornitore mi sta apertamente raccontando il carattere preferenziale delle merci per il quale basterebbe lo anticipo dire solo UE, quando parleremo di origine preferenziale mi basta un'attestazione di origine avanzale UE, se mi mette il barra Italy, barra Spain di turno io non posso che leggerla come un'attestazione di made in, ma anche la Camera di Commercio la legge come tale, la può ritenere documento valido a supporto di un certificato di origine. Sono Lorenzo, invece mi dice noi utilizziamo un bulk made in France, tale bulk viene riempito in tito, in Italia, in flacconi, con capsule, pennellini, etichette, dei piantini made in Italy, naturalmente mi ha stampato un made in way. Allora sul made in way dubbi non ce ne sono, è chiaro che siamo tutti paesi dell'Unione Europea e dubbi zero. È possibile mettere il made in Italy, una domandona così su due piedi, perché per me il made in Italy riparte sempre dalla voce canale del prodotto finito. Quindi che cosa vendo e ci vuole la voce canale del prodotto finito. Voce canale del prodotto finito, continuiamo a scorrere questo allegato il 201 e ognuno avrà le sue risposte. Allora vi ho detto ho perso un po' il ritmo delle vostre voci doganali. Comunque c'erano dei 34, 17, questa sera giocate all'8 mi raccomando perché qualcuno vincerà sicuramente. Tutti i numeri che daremo oggi c'è 7, 20. Provo a scorrere perché magari qualcuno non ha scritto la voce canale, la sta comunque guardando. C'era forse un 33, 32, 34 quindi anche il 33. Quindi abbiamo tra adesso un sacco di voci doganali che non sono contemplate nell'allegato in 201. Qualcuno sta scrivendo adesso un 21,06 quindi basto un 20, 22. Avete una precisione estrema nel mancare i capitoli dell'allegato in 201. Per adesso tutti l'avete mancati. 34 c'è. Ecco abbiamo una prima soddisfazione. Qualcuno adesso vado a ricapire chi ha scritto un 34 perché me l'ho segnato da qualche parte. Un 34,05. Ex 34,05. Probabilmente, e questo è da chiedere a chi ha fatto l'indicazione 34,05. Questo è un caso molto particolare. E qui il capitolo c'è. Quindi la logica quando trovo il capitolo che in base alla voce doganale c'è una descrizione e c'è la relativa regola primaria che devo soddisfare. Però questo è un caso particolare perché c'è l'ex davanti. Vedete? Ex davanti a 34,05. Non è una storia di ex fidanzati, è una storia che l'ex ha un valore. Perché? Qui sono tutti ex, mannaggia, non c'è uno senza ex. Ecco questo 16,04. Mi sta dicendo che questo prodotto 16,04 ha questa regola primaria per i prodotti che sono 16,04. La presenza dell'ex davanti a una voce doganale a quattro cifre mi sta dicendo che invece questa regola è una regola che vale per tutti i prodotti 34,05 che si identificano in questa descrizione. Quindi evidentemente vuol dire che ci sono dei 34,05 che non sono feltro e stoffe non tessute. Quindi se avete un 34,05 che non si conosce in questa descrizione questa non è la mia regola. Quindi se l'azienda che ha posto il quesito 34,05 dice no no ma questo è assolutamente il mio prodotto, feltro, stoffa non tessuto, allora la sua regola è fabbricazione, deve essere una produttiva a partire da feltro e stoffa non tessuta. Se il feltro e la stoffa non tessuta te la compri dove vuoi nel mondo, tutta la fase del processo produttivo successivo, compresa la tessitura probabilmente, te la fai in Italia. Allora a quel punto puoi dirmi che è in Italia. Se invece tu non ti riconosci in questa descrizione non hai trovato la regola, se è lo stesso livello di quelle aziende che non hanno trovato il capitolo dal mio punto di vista. Ok? Allora 34, continuiamo 35 se non ci fosse nessuno, 42, quindi qualcuno qui in mezzo c'era e qualcuno se non sbaglio parlava di 39, quindi sì di 39 ne abbiamo visti, non c'è nessuno, 42, poi inizia il fantastico mondo tessile invece iper rappresentato. Il mondo tessile qui c'è veramente tutto, quindi il primo che se non sbaglio era un 5408, arriviamo, arriva, 5408, eccolo qua, quindi l'azienda mi parlava del 5408, 2100, comunque 5408, tessuti di filati, la regola è fabbricazione a partire da filati, cioè il filato te lo compri dove vuoi, nel mondo indistintamente inteso, ma la tessitura me la devi fare in Italia. Se tu fai la tessitura in Italia, il prodotto è made in Italy, se la tessitura in Italia non lo fai, il prodotto non è made in Italy. Oppure, regola alternativa, stampo, tintura, tessuti grezzi o precandeggiati, cioè la tessitura puoi comprare il tessuto grezzo precandeggiato nel mondo, però devi garantirmi di fare in Italia o la stampa o la tintura insieme alle operazioni di preparazione e di rifinitura. Se fai queste due attività in Italia conferisce origine a qualcosa che non è nato necessariamente in Italy. Signora Martina sta facendo un'affermazione, potremmo dire che in un certo senso che il made in Italy è più importante l'origine preferenziale perché l'assenza della prima certificazione ci può precludere l'ingresso in un paese, mentre la seconda serve protezione. Sì, quello che scrive la signora Martina è assolutamente giusto, cioè l'assenza del made in Italy mi impedisce di accedere ad alcuni mercati, non in tutti, ma ad alcuni mercati mi impedisce. L'origine preferenziale di cui parleremo è invece un'opportunità, un'opportunità che, come tutte le opportunità, posso cogliere o non cogliere, però non è mai una condizione del clearance, non è mai una condizione dello staggamento. Se io voglio entrare in un paese che so io a Svizzera, con i quali sono accordi di origine preferenziale e non ho la possibilità di definire le merci preferenziali, non è che non entro in Svizzera, in Svizzera mi fanno entrare, si paga d'azio pieno ma mi fanno entrare, quindi se l'affermazione è fatta in questi termini concordo pienamente, assolutamente. Allora, se il 5408 è questa regola, qui il tessile non ci sono più limiti, il tessile c'è veramente tutto, 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 è il settore meglio rappresentato, non è stato il tessile, mi sembra che il prossimo fosse il 62, 03 mi sembra di ricordare, sì, allora 62 e 03, vestiti, eccolo qua, finiti o non finiti, cosa stiamo combinando di bello? Se fossero finiti e completi dovremmo fare la regola della confezione completa, vi ricordate che c'è la definizione in apertura che io vi ho saltato, ma la regola della confezione completa vuol dire che devo garantire fatte in Italia tutta l'attività successiva al taglio del tessuto, quindi il tessuto può arrivare dal mondo e tutte le restante fasi successiva al taglio devo garantirle fatte sul territorio unionale, italiano scusate. Se invece dovessi realizzare un prodotto non finito o incompleto, mi dicono se vuoi comprare il filato nel mondo ma tutta la tessitura, anche il tessuto devi farmelo qua, mentre nella confezione completa potrete da comprarmi un tessuto, c'è una piccola grande differenza. Allora poi qui diventa difficile perché avete messo un fiume di vostri organali, ci sono dei grandi 84, tantissimi 84, ho anche 85, poi alla fine apparsa, di 90, 94, comunque andrei direttamente al capitolo 84, dove per esserci il capitolo c'è, eccolo qua, capitolo 84. Allora qua a sorpresa c'è un 84-43 con l'ex, un 84-73, un 84-82, la maggior parte di voi mi ha parlato di 84-22, 34-79, 34-29, 34-21, 84-43, c'è qualcuno, 84-43, ma se faceste l'apparecchio di fotocopia sistema ottico per contatto questa è la regola, ma se un 84-43 che non è un apparecchio di fotocopia questa non è la regola, ok? 34-18, 34-31, 34-11, 34-34 mi sembra che fossero tutti qua. Allora, io qui direi che è giunto il momento di, se volete ormai visto che l'abbiamo scorso per serietà lo scorro ancora per tutti, 85 c'è, 85-01, non ce l'abbiamo, 85-04, non ce sta, 85-16, non ce l'abbiamo, 85-37, eh, 85-37-10, se fate proprio questo modulo intelligente di comando del motore semiconduttore per il controllo, questa è la regola, o se vedete bravo non mi riconosco in questa definizione, visto che c'è l'ex e mi devo riconoscere, non mi riconosco, questa non è la regola, ok? Adesso poi le spiego meglio, eh? Poi il capitolo di 90 c'è, 90-31, 90-27, il 90-27 non c'è, finalmente abbiamo trovato un 90-31 bello pieno, no? Chi fa il 90-31 ha la regola, questa è la regola primaria, quindi chi fa il 90-31 ha la regola battezzata, questa è la condizione che dovete rispettare, adesso la Lester sta scrivendo, il nostro codice di fronte 90-15, sembra che non sia incluso, confermo non essere assolutamente incluso. Allora, cosa ci succede? Diciamo che, adesso vi riassumo, ormai scorro per chi ha messo le voci in canale, 94 c'era, sì, 94-01, proprio con l'ex, mobili per sedersi di ceramica, no, non è questa la vostra voce in canale, eh? Se invece i vostri sono mobili per sedersi di ceramica, allora questa è la vostra voce, la vostra voce in canale, la vostra regola. Quindi, ve la voglio riassumere eh, in estrema sintesi quello che, eh, quindi, ho scritto 94-03, proprio in estremis, anche qui, ex, mobili per sedersi di ceramica, penso più no che sì, quindi questa non è la vostra regola. Allora, quando c'è CTH vuol dire cambi di una delle prime quattro cifre, tanto per riprendere il glossario. Vi faccio un riassunto estremo, molto estremo, tra legato 2201. Allora, legato 2201 ci sta ponendo queste casistiche. Non ho trovato il capitolo, in tanti siete finiti in questa condizione. Non ho trovato il capitolo, non ho trovato la regola primaria, no? Perché se avessi trovato il capitolo avrei trovato anche la regola primaria, forse con la mia voce canale. Quindi, su questo caso non c'è dubbio alcuno. Tutte quelle aziende che non hanno trovato il capitolo dove devono andare a cercare le regole, questo lo dicono tutti, l'agenzia delle organi, l'Unione Europea, il portale dell'Unione Europea stessa, rimando tutte le aziende a visitare le regole, cosiddette di lista, le regole del World Trade Organization, le regole che esprimono il parere della Commissione Europea. Hanno tanti modi per essere definite, sono delle regole che tra poco andremo a vedere insieme e colmano queste lacune che sono voragini, perché quelle regole analizzeranno tutte le voci doganali a quattro cifre. Per ogni voce doganale identificheranno quello che verrà definita essere la primary rule, la regola primaria della trasformazione sostanziale. Ok? Chi non ha trovato il capitolo non c'è dubbio alcuno, deve andare lì. Chi invece ha trovato piena soddisfazione e quindi si è trovato il capitolo, si è trovato la voce doganale, non c'è dubbio alcuno. Ha la regola primaria, no? Puntata qui, e deve rispettare questa regola. CTH, cambio non le prime quattro cifre alla voce doganale. in questo caso, tranne dalla 9033. Cosa mi sta dicendo? Che se io passo dal 9033 al 9031, apparentemente la quarta cifra l'ho modificata, quindi CTH è rispettato, perché mi dicevano che cambia una delle prime quattro cifre. Però mi dicono se il 9033 non è Italy, non vale. È un'eccezione. Normalmente varrebbe, ma in questo caso non vale, perché probabilmente il 9033 sono le parti di distrutto di misura. Quindi se tu parti, cioè inizi da una parte, è troppo facile e quindi non vale. Oppure, perché c'è una O, una letterale alternativa, assemblaggio di semiconduttori. Ti compri il semiconduttore dove vuoi, ma l'attività di assemblaggio non la devi garantire fatta in Italia. Allora, chi ha avuto la fortuna di trovare il capitolo, trovare la voce doganale, bingo! Alla soluzione, alla regola primaria pienamente rispettata. Ma molti, molti di voi, tutti quelli del capitolo 84, si troveranno nella condizione, ma non solo 84, anche 85 abbiamo visto prima, avranno trovato il capitolo, perché il capitolo 84 e 85 ci sono, perché le abbiamo qui davanti, ci sono, ma hanno trovato la voce doganale puntuale del mio prodotto. Allora qui che fai? Qui è il caso un po' più controverso, io non ho dubbi sulla soluzione, ma è il caso un po' più controverso, perché c'è una circolare dell'agenzia dogane scritta, non male, malissimo, che sembrerebbe darci un'interpretazione che diventerebbe altamente fuorviante, perché questa circolare sembrerebbe dire che nell'ipotesi in cui un'azienda abbia individuato il capitolo, ma non abbia trovato la regola per la sua voce doganale, debba applicare la regola del capitolo. Dastro nazionale, se fosse questa la giusta interpretazione, io vi tolgo il made in Italy, il 90% dei prodotti italiani, perché applicando a questo livello la regola residuale, si va a valorizzare il valore dei materiali, l'origine dei materiali, delle materie prime che hanno permesso di realizzare il prodotto finito, però leggiamola questa regola residuale che c'è praticamente in ogni capitolo, quindi si applicherebbe a tutte quelle voce doganali in cui è presente il capitolo legato a 2201, ma non la relativa voce doganale. C'è scritto, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, i paesi di origine delle merci e quelli in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore. Vuol dire che devo esplodere le sintabase, devo andare a vedere ogni singola rigida delle sintabase, cosa c'è di Italy, di France, di Germany, di Spain, di China e andare ad attribuire l'origine al paese che ha conferito, come dicono in inglese, la major portion of value, la maggior porzione di valore. Sì, ma noi che italiani che non abbiamo materie prime, l'italiano non c'è nulla, la mia lavorazione, la mia ingegneria, il mio genio di creativo conterebbe zero, meno di zero, quindi di Italy non c'è più nulla. Ma allora faccio, avvolgo, riavvolgo il nastro. Attenzione, perché se io leggo se il paese di origine non può essere stabilito applicando, qui diventa una questione di italiano, di lingua italiana, applicando le regole primarie. Io non sto applicando le regole primarie, non le ho neanche trovate. L'interpretazione che vi do, che è suffragata non da quello che pensa del nevo, che non è assolutamente nessuno, ma suffragata da fonti unionali, perché nel portale dell'Unione Europea sembrerebbe avvallare questo mio pensiero, ma io vi porto il punto di vista del Consiglio Nazionale dei Doganalisti Italiani, di cui faccio anche parte. La nostra logica è, questa è una regola che entra in subordine dopo aver procurato applicare la regola primaria. Ad esempio, potrebbe essere in un CTH, io metto un componente China, un componente Italy, insieme, entra il 228443, è uno e l'altro, di metterci in Italia, il 228443, già come materia prima, cioè come similavorato, entra il prodotto finito il 2443, allora la regola primaria non riesco a applicarla. Allora, mentre sto applicando la regola primaria e non riesco a dare un'origine, a quel punto vado a esplode senza base e vado a dare l'origine al paese che ha conferito la maggiore porzione di materiali. Cosa domina di più? L'Italia o China? Domina China, mio malgrado dico che China. Questa è un po' la logica che vi dico di seguire. Allora, se è vero questo, che l'applicando mi permette di considerare questa regola residuale da applicare in subordine rispetto alla regola primaria che devo comunque aver prima individuato, chi si trova in questi svariati vostri voci suganali dall'84-22, 84-79, 88-29-21 che mi avete citato, mando vado e te ne vai a vedere le stesse regole che vanno cercando tutti coloro che non hanno trovato il capitolo. Questo è il finale della storia. E allora dove vado a cercarle? Le andiamo a cercare nel portale dell'Unione Europea. Sì, perché nel portale dell'Unione Europea ci sono tutte le regole che noi troviamo voce di un canale per voce di un canale, che vanno a riprendere tutti quelli che sono i pareri della World Trade Organization, quei pareri che sono stati iscritti a livello mondiale, ok? Perché il World Trade Organization di fatto è questo organismo sovranazionale a cui deriscono tutte le aziende, oserei dire, civilizzate del mondo. Allora, guardiamoli direi insieme, questi pareri, a questo punto credo che non ci resti che fare un'attività di questo tipo. Vedrete che questi pareri sono molto più belli, quantomeno sono molto più completi, perché qui non ne saltano più una di voce di un canale, assolutamente. Quindi mi daranno piena soddisfazione, oserei dire di sì, assolutamente sì. Quindi qui però si ragionerà ancora una volta, da caso, con l'origine, con le voce di un canale, scusate. Quindi vi porto su questo, sì, vorrei portarvi, se non vi trovo più voi, scusate, un attimo, le defiance col pc. Questo è il portale dell'Unione Europea dove troviamo tutte le regole, Table of List Rules Confering Non Preferential Origin, quindi le regole per conferire l'origine non preferenziale di cui stiamo parlando. Guardate come ragiona per capitoli della voce di un canale. Adesso siamo inchiodati sul capitolo 84, vado un attimo a aprire il capitolo 84, mi ha scaricato, vedete, in tempo reale tutte le primary rules del capitolo 84 e qui non ne salto più una. Qui adesso diventa difficile parlare di tutti voi, ma provo a scorrerle. Ma quello che qualcuno con un po' d'occhio noterà, che quasi sempre la regola è identica, non è sempre identica, abbiamo delle eccezioni, però quasi sempre la regola ricorrente è il CTH or 45% di valore aggiunto. Nel settore industriale il capitolo 84-85 spesso ricorre questa regola, ma ognuno deve cercarsi la sua voce di un canale, ognuno deve applicare la sua primary rule con la sua voce di un canale. Quindi, vedete, a volte il 45% non c'è su alcuni prodotti. Allora, siccome la primissima persone che avevano scritto parlavano di 84-22, partirei da quella, 84-22, CTH o 45%, classicissima regola. Cosa vuol dire CTH? Cambio di una delle prime quattro cifre alla voce di un canale, vuol dire che se produco 84-22 non posso aver messo in produzione nulla che se ho 84-22, o meglio, 84-22 in produzione ci può stare se è Italy, se voglio mantenermi in Italy. Se ho messo in produzione qualcosa che non è Italy, chi se ne frega, qualunque voce di un canale se posso avere come materia prima semilavorato, io l'ho reso 84-22, bingo, condizione pienamente rispettata, il mio 84-22 è pienamente Italy. Ma a volte, e questo lo dico senza timore di essere smentito, molte aziende mi dicono, ma io non ce l'ho le voce di canale degli acquisti, non ho mica classificato tutti i miei acquisti, molte cose mi arrivano dall'Italia. E quando chiedo al fornitore che originale mi dice, non lo so, mi dice, non lo so, ma Italy no. E allora come faccio a fare, ad impostare un sistema origine in un confronto di voci di canali che non ho? Perché il prodotto finito l'ho capito, 84-22, ma tutti i componenti che voci di canale hanno, non lo so, sono in grande difficoltà. Allora dico, or, alternativa, andiamo a cercarci la regola alternativa. La regola alternativa che cosa mi racconta? Che io posso comunque conferire origine con un 45% della raggiunta. Cioè cosa vuol dire il 45% della raggiunta? Attenzione, a queste regole non le applicate mai, mai, mai a una ditta commerciale. Non è che siete bravi commercialmente, compra 100, vende 200, a lei 45% ampiamente superato. No, questa è una regola, una primary rule di una ditta produttiva. La ditta produttiva deve garantirmi che se lavora, se trasforma, se ottiene un prodotto finito che vende a 100, almeno 45% di valore deve essere stato apportato grazie alla lavorazione italiana. Questo vuol dire che concorrono a contribuire al raggiungimento della soglia del 45% di valore aggiunto, le materie prime conclamatamente italiane che ho messo in produzione, quelle che i fornitori mi hanno scritto essere italiani, le mie lavorazioni fatte in Italia, assolutamente sì, il mio margine, assolutamente sì, ma devo lavorare, devo trasformare, mi raccomando. Se la sommatoria di questi tre valori rappresenta almeno 45% del prezzo di vendita, bingo, ce l'ho fatta, senza guardare le vostre canali. E quindi potrei averci anche qualcosa di 84-22, sia pur marginale di non-Italy, ci sta, perché io non sto guardando un confronto di voce canali, sto guardando la regola del 45% del prezzo di valore aggiunto, una regola ricorrentissima per molti di voi, molti ce l'avranno tra i piedi, ed è una regola piacevole per certi versi, perché questa valorizza veramente le ditte produttive, le ditte che ci mettono ore uomo, ore operai, costi di produzione, qui concorrono al 45% di valore aggiunto. Quindi un settore industriale, 84-85, è una regola simpatica, per me sì, e vedete, la troverete spesso, 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 poi ci sono delle lezioni, no? Spesso le lezioni sono, fai il folk lift, questo mezzo per sollevare, CTH, except from heading, se tu inizi la produzione delle parti, perché il 31 saranno parti di questo folk lift, non vale, cambieresti una delle prime quattro cifre, ma non te la passo per buona in questo caso, questa è un po' la logica, no? E quindi, ora, al di là dei qualsiasi che continuano a piovere, e mi scuso del non riuscire a reggere il ritmo di tutte le domande, e ne ho perse sicuramente qualcuna, perché non è voluta, perché qui passando un po', leggendole un po' il volo, e cercando di andare avanti, di quella trattazione, ne sto perdendo qualcuna. Poi vi darò modo di recuperarle in coda, assolutamente, qualcuno, se una Silvia a un certo punto ha fatto domande, se no, può rispondere in coda, quindi non l'ho neanche letta, poi la leggeremo con più calma. Quello che io voglio che sia chiaro, ma chiaro, 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 visto che ci stiamo avvicinando al momento più interessante del nostro pomeriggio, che è ovviamente la pausa, perché tra poco ci sarà quei dieci minuti di pausa che avevamo concordato, è il percorso logico che dovete avere in testa. Adesso non avevo la pretesa di risolvervi i problemi, del made in uno ad uno a tutti voi, perché siete più di circa 150 persone presenti. La mia idea era quella di darvi il percorso logico, quindi ditta commerciale, comprovendo queste regole, non le guardate neanche col pinocchiale, compro, chiedo, ottengo, conservo le dichiarazioni ai fornitori e le replico tal quale. Non posso far diversamente. Ditta produttiva, produco cosa? Voce dogana alla mano. Allora, il percorso logico è, vado alla legata 2201, ho soddisfazione nel momento in cui trovo il capitolo, trovo la voce canale, trovo la regola con la primary rule di riferimento, la regola primaria. Non riesco a applicare la regola primaria, ho la regola residuale. E questa è l'azienda quella fortunata. Le aziende un po' meno fortunate, che consultando fiduciosamente la legata 2201, non trovino il capitolo, abbiamo capito che succede, spesso che non trovo il capitolo, anzi molti di voi non hanno trovato il capitolo, o quelle che trovano il capitolo, ma non trovano la voce canale puntuale, del loro prodotto, non possono che andarsi a collegare a questo portale dell'Unione Europea, che ve lo rimando, poi se vorrete il link a pagamento, ve lo faremo avere volentieri, diventa difficile trascriverlo, però insomma è un link assolutamente, dell'Unione Europea, assolutamente fonte, pubblicissima, tutto liberissimo, e voi andate a scaricarvi il capitolino, il capitolo della voce doganale, e voce doganale, per voce canale qui la trovate tutti, e tutti, 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 qui vi assicuro che non avrete quelli stessi buchi voragini che vi ho definito prima nel legato 2201, quindi qui ognuno troverà la sua voce doganale, troverà la sua Prama e Rule, andrà a applicare nella sua distinta base la Prama e Rule, e quindi avete capito che il cuore della ditta produttiva è la distinta base, distinta base che deve essere possibilmente alimentata con tutte le indicazioni di origine delle materie prime, dei semilavorati, perché se a un certo punto devo fare delle sommatorie di componenti Italy, France, Germany, China, se avesse alimentato il dato con le informazioni che arrivano dal parco fornitori, anche a me ditta produttiva, poi lo fa un computer questo conteggio, non c'è più bisogno di fare un intervento manualissimo, è chiaro che però devo massacrare anche io come ditta produttiva al parco fornitorio, devo chiedere, qui qualcuno mi dice ma io vendo una vite, uno che fa un impianto, ma è possibile che gli interessi la mia vite? Io mi dico probabilmente è un eccesso di zelo di chi fa l'impianto, perché chi fa la viteria potrei anche dire a chi se ne frega quel componente vite si annega nel valore del mio macchinario, probabilmente potevo tranquillamente non chiedere assolutamente nulla, direi questo è chiaro, però nell'entusiasmo si chiede un po' tutto a tutti. Allora, fatto quello mi esce fuori un output che è un prodotto finito che battenzerò tutto nella sua interezza made in Italy, made in France o made in China. Può avere un'origine sola al macchinario, non mille origini, questo dovrebbe essere il finale di storia, assolutamente. Allora, esattamente che sezioni dobbiamo consultare in questo sito per trovare i codici, quale percorso, eh no, il percorso è questo, dovete link e poi vedete ognuno ha quel suo capito della voce canale, clicca e poi scorre con le voce canali. Ma se la distinta base è formata da diversi livelli, fino a quel livello dobbiamo arrivare e questa domanda un po' più tecnica, però domanda più che lecita, è chiaro che la distinta base è fatta da più livelli, però avrò il primo livello in cui avrò una lavorazione e al secondo livello mi nasce un output che è un prodotto sia pur semilavorato che è un prodotto finito che al secondo livello sale con un'origine unitaria, non so se ho reso l'idea, quindi potrei avere due materie prime che si mesclano, tengo un semilavorato, quel semilavorato deve avere un'origine unica, che si mescola un secondo semilavorato sale e ha un'altra origine, quindi salendo di livello i prodotti si trascinano un'origine univoca, non so se ho reso l'idea perché non è facile in poche parole. Ad esempio la mia azienda realizza mobili di lusso, a volte il marmo viene da paesi lontanissimi, abbiamo sempre agito tenendo presente la regola del 45% di valore, se è prevista per la vostra voce ganale assolutamente l'esito, perché questo marmo ad esempio diventa, ok, ci sta, io vi dico soltanto 45% di valore raggiunto è una regola applicabile se prevista da queste regole, altrimenti non la posso applicare se non contemplata per un prodotto come il vostro, ok? Io temo di aver perso una buona dose delle domande, me ne scuso con tutti quelli che ho saltato, se poi avrete voglia la riproponete magari a fine corso, verso 17-20 faremo qualche minuto di domanda selvaggia a cui dare risposte immediate. Siete d'accordo? Anche per darci quel necessario stacco mentale tra il made in e l'origine preferenziale io farei una pausa di 10 minuti e quindi vi inviterei a prendere un caffè rigenerante a tutti e a rincontrarci virtualmente qui direi a questo punto alle 4 e un quarto può essere una giusta mediazione. Ok? Allora se nessuna controindicazione particolare buon caffè a tutti e ci vediamo tra poco. Ok? Va bene, grazie dottor Del Nevo ci rivediamo tra una decina di minuti allora. Perfetto. Grazie, grazie. 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 Io ci sono. Non so se siamo presenti tutti o meno. Diventa difficile stabilirlo. Uh, diamo per scontato i sali di tutti. Magari rispondo a qualche domanda di quelle che sono rimaste in chat per dare tempo a chi fosse arrivato lungo di recuperare la postazione. riparto dalla domanda su una barbara e scrive 84 22 non conosco l'origine preferenziale perché magari acquistato il macchinario di un'azienda italiana che non era produttrice le rivendono un paese accordista ad esempio Albania dopo aver revisionato il macchinario immagino che sia in fattura metto merce di origine non preferenziale sì non conoscendo l'origine preferenziale non possiamo sostenere la preferenzialità e quindi sicuramente non posso definirla preferenziale ovviamente il cliente pagadazzi sì nel momento in cui io non sono in grado di attestare e supportare la preferenzialità delle merci automaticamente il cliente pagadazio se Giuseppe scrive una volta stabilito che si tratta di merce non preferenziale quindi se ho ben capito made in Italy immagino sì qual è la corretta di situra made in Italy counter of origin Italy merce di origine italiana per me sono tutti sinonimi con i quali può attestare l'origine made in origine non preferenziale che dir si voglia ok io direi riprendiamo con la cavalcata di questa oretta abbondante che ci separa dalle 5 e mezza per parlare di origine preferenziale intanto mi scuso ovviamente con tutti per magari la fretta con cui affronto l'argomento ma sono abituato a parlare di origini con un'autonomia di otto ore minimo quindi il tema lo sto volutamente affrontando cercando di darvi il maggior numero di contenuti possibili nel più stretto tempo possibile perché rischio che starmi ad ascoltare per tante ore sia oltremodo noioso però insomma spero insomma di riuscire a mettervi il maggior numero di informazioni possibili. Allora diciamo che ecco la signora Barbara stava facendo una domanda noi avremo una domanda relativa al cervicato ATR ma qui siamo già passati nel mondo dell'origine più preferenziale che made in però posso già rispondere noi abbiamo una domanda relativa al cervicato ATR che si usa per la Turchia quindi la signora Barbara sta andando sicuramente in Turchia siamo presenza del codice donale 90-19 e la regola residuale viene dato il made in UK in questo caso viene solo assemblato in Italia allora l'ATR che si usa solo per la Turchia non attesta l'origine preferenziale delle merci l'ATR è un documento che attesta la libera circolazione delle merci quindi non è un'attestazione di origine preferenziale quindi in realtà questo prodotto per quanto made in GB esso sia ha diritto all'ATR sì perché l'ATR viene messo per tutte le esplorazioni verso la Turchia o di merci unionali quindi che sono state prodotte in Unione Europea o di merci extra unionali in questo caso UK che siano state importate nella UE quindi è sufficiente questa merce aver subito uno sottolineamento in ingresso nella UE per aver diritto al certificato l'ATR eh assolutamente sì questo eh lo confermo Martino scrive cosa significa cambio di sottovocio canale nello specifico eh sottovocio canale normalmente si va a vedere non un cambio delle prime quattro ma un cambio delle prime sei cifre quindi normalmente è sufficiente che la trasformazione comporti almeno la variazione di una delle prime sei cifre della voce canale nel quel nudo e crudo confronto tra la voce canale prodotto finito a sei cifre e le voce canali delle materie prime semilavorati come esso in produzione per realizzare quel prodotto finito eh ok allora riprendiamo il tema eh dell'origine ma questa volta al lato eh origine preferenziale eh lato origine preferenziale cosa significa? Significa che a questo punto quello che ci siamo raccontanti vale poco o nulla perché invece noi dovremmo andare a capire ehm quando una merce è definibile di origine preferenziale UE introduco quindi un concetto nuovo il made in era made in Italy made in France made in Germany ogni paese si faceva i fatti suoi per stabilire se la mia trasformazione fosse sostanziale sì sostanziale no devo capire che lavorazione ho portato sul territorio Italy italiano se invece noi stiamo cercando di capire se la nostra merce sarà definibile preferenziale UE la lavorazione l'ultima lavorazione sufficiente devo averla fatta nella UE indistintamente intesa nella UE intesa come Italia France Germany eh o Spain che sia è uguale non cambia assolutamente nulla cosa serve l'origine preferenziale se il made in di prima serviva fondamentalmente no in qualche modo per tutelare il consumatore per fargli capire che la merce italiana che lui paga una certa cifra ma gli diamo una garanzia di prodotto italiano fatto in Italia e aveva quell'implicazione sul dazio antidumping o poco altro che ci siamo visti sui divieti contingenti l'origine preferenziale l'ho già detto è un concetto esquisitamente doganale è un concetto quindi uno strumento come vedete scritto qui che consente non a tutte le merci indistintamente intese ma le sono le merci che vengono importate e o esportate da o verso alcuni paesi e che soddisfino precisi requisiti la concessione dei benefici daziari quindi in realtà l'origine preferenziale non è mai un must non è mai un obbligo un'opportunità che viene concesso considerate che l'origine preferenziale è un concetto spendibile solo verso quei paesi con i quali l'Unione Europea ha siglato accordi di origine preferenziale che non sappiamo sono tanti ma non sono tutti i paesi del mondo provate a raccontare ad un americano che la vostra merce di origine preferenziale UE vi risponderà chi se ne frega il dazio quello è e quello rimane provate dire a un canadese che la vostra merce di origine preferenziale UE questo fa i salti di gioia perché di fatto il Canada ha un accordo di origine preferenziale se io gli racconto che la merce preferenziale UE il canadese il dazio non lo paga o lo paga in misura ridotta quindi è chiaro e deve essere chiaro che i benefici d'origine preferenziale in termini economici diretti sono tutti del cliente importatore è lui che paga o non paga il dazio è lui che ha interesse tendenzialmente a non pagare il dazio voi in qualità di esportatori avete interesse invece a raccontare che la vostra merce preferenziale UE perché siete più competitivi sul mercato no perché quella vostra merce che riuscirete a raccontare preferenziale UE entra a destino senza dazio è bello perché siete competitivi assolutamente sì direi no quindi la logica è che l'esportatore si sbatte per mettere insieme un sistema origine delle merci per avere benefici indiretti perché il cliente che non paga il dazio è un cliente contento è un cliente che compra di più diventate veramente un'azienda competitiva sul mercato locale estero no allora l'origine preferenziale che ribadisco non è un obbligo una grossa opportunità commerciale va spesa solo con i paesi con i quali l'Unione Europea ha siglato accordi di origine preferenziale che sono tanti paesi stiamo almeno parlando di una sessantina abbondante di paesi con i quali sono in essere accordi di origine preferenziale quindi è chiaro che l'esportatore venditore dichiara e il cliente importatore beneficia questo è lo schema ricordo che gli accordi che sono attualmente in essere sono praticamente quasi tutti bilaterali questo cosa significa che se io azienda unionale vendessi merci di origine preferenziale UE al cliente extracomunitario lui non paga il dazio se io comprassi merci di origine preferenziale messicana inglese colombiana sud africana il dazio non lo pago io l'attenzione che introduco un concetto drammatico per qualcuno normalmente quasi tutti i protocolli di origine le regole di origine preferenziale sono one way a senso unico cosa significa a senso unico che se io vendessi all'inglese merce di origine preferenziale UE almeno non paga il dazio benissimo la mia merce di origine preferenziale muore in Gran Bretagna perché se l'inglese mi rimandasse indietro quella merce preferenziale UE non pagherò il dazio e invece se no al dazio lo paghi perché io potrei non pagare il dazio solo se importassi dalla Gran Bretagna merce di origine preferenziale GB ma affinché la merce assuma l'origine preferenziale GB è necessario che subisca sul territorio GB una lavorazione sufficiente cosa che in questo caso stiamo parlando di un reso non c'è sicuramente mai stata per cui la merce rientra sì con dazio pieno non voglio pagare il dazio se fosse un reso vero di merce dovrei chiedere alla dogana il ricorso all'istituto straordinario della reintroduzione in franchigia doganale guarda che non sto comprando niente gli inglesi è la mia merce che torna e mi dice dimostrano dimostrano che la merce che torna è la stessa uscita io ti faccio ritornare ad azio zero però tutto un iter assolutamente particolare quindi in realtà volevo spiegare il punto questo one way nel senso che la merce che torna non gode della preferenzialità dell'andata no solo in suizia si può fare ma con gli altri paesi non funziona questo schema allora è chiaro che il fatto che gli accordi sono bilaterali potrebbe diventare un'informazione interessante per chi fa import perché io quando compro merce di origine messicana se il messicano me lo definisce tale non pago dazio sono io il importatore beneficiario il messicano dichiara e io beneficio visto nell'ottica diametralmente opposta a quella dell'essere noi esportatori allora come si come si conferisce un'origine preferenziale delle nostre merci e ritorniamo punto a capo alla divisione della platea che oggi si sta ascoltando ci saranno ditte commerciali ditte produttive ditta commerciale per definizione comprevende per definizione non conferì a me di e neanche origine preferenziale in grado di conferire quindi la ditta commerciale chiede pretende ottiene archivia rinnova dichiarazione fornitori e replica questo schema mentale non può fare che così la ditta commerciale la ditta produttiva compra materie prime compra semilavorati li lavora li trasforma e forse conferisce origine forse perché c'è lavorazione e lavorazione allora qui iniziano i problemi ma quelli seri perché l'origine commerciale è molto più difficile a gestire del made in perché se il made in di prima bene o male una regola allegato il 201 pareri della commissione europea che dir si voglia una regola la trovo la applico e quella è la spendo per il mondo una volta che stabilito che il prodotto soddisfa i requisiti made in italy dico italy in tutto il mondo che se un brasiliano uno svizzero o un australiano non ti guarda neanche più in faccia dico italy l'origine preferenziale non è così perché per stabilire se una merce soddisfa i requisiti per essere definita preferenziale ue dimmi dove vai e ti dirò chi sei mi devi dire in quale paese ti interessa spendere la preferenzialità della tua merce perché le regole per stabilire se il prodotto abbia o non abbia subito udite udite una lavorazione sufficiente cambiano da paese a paese qualcuno potrebbe dire ma come sufficiente appena adesso è parlato di sostanziale certo perché per il made in si parla di trasformazione sostanziale per l'origine preferenziale si parla di trasformazione sufficiente volutamente non sono sinonimi perché perché sono regole diverse è per questo che vi faccio con l'affermazione forte prima un prodotto made in italy non è detto che sia preferenziale perché ha regole diverse ha fonti normative diverse allora quando come faccio a stabilire se la mia lavorazione è sufficiente sì o è sufficiente no per me ditta produttiva devo capire dove vendo il prodotto vado in messico mi devo studiare l'accordo fatto dall'unione europea col messico che è una gazzetta ufficiale che concede l'accordo trovabile rimbenibile sul sito l'unione europea ma certo che se con lo stesso prodotto lo realizzo e non lo vendessi in messico ma lo vendessi in sudafrica se ho poco da guardare l'accordo messico devo guardare l'accordo sudafrica e se domani dopo domani vado in serbia che cosa c'entra la sudafrica e il messico guarda l'accordo pan euro mediterraneo in cui rientra anche la serbia paese che vai regola che trovi qui entriamo con una variabile paese drammatica per la ditta produttiva perché lo stesso processo produttivo stesso prodotto stessa voce canale n paesi destino perché se io lavoro su commessa sto lavorando per il messico ragiono con la gazzetta ufficiale del messico tra le mani ed è pacifico che deve rispettare la regola che vi impone il messico ma se io sono l'azienda che compra produce a stock perché non so veramente ancora chi venderò ma potrebbe arrivarmi a far l'ordine il messicano oggi come sudafricano o il serbo nello stesso giorno ma quale regola devo applicare quella del paese destino e qui iniziano i dolori ma quei dolori quelli feri perché la regola è uguale ne qualche volta coincide qualche volta no e allora quale applico dovresti applicare quella puntuale del paese di spedizione e ma io voglio saperlo a priori se la merce preferenziale sì o no quale regola applichi non ci resta che fare questa attività entusiasmantissima di creare quella che io chiamo una matrice delle regole di origine cioè andare a studiarmi voce doganale alla mano di ognuno di voi ma normalmente si ragiona sulle prime quattro cifre voce doganale alla mano andarmi a aprire tutte le gazzettine ufficiali di tutti i paesi accordisti con i quali voglio intrattenere rapporti udite udite diretti o indiretti e poi vi spiegherò l'indiretto allora guardo le gazzette ufficiali e questo vi inviterei a farlo se non lo volete fare ve lo facciamo noi vi invitiamo anche noi ma con le voce doganale andare a strapolarsi tutte le gazzette ufficiali dal sito dell'unione europea e andare a vedere voce doganale per voce doganale vostra come cambia o non cambia la regola di origine in funzione del paese destino se siete fortunati e il tessile ad esempio in questo senso oppure avendo mille sfortune è fortunato tendenzialmente la regola è uguale i non tessili questa grande maggioranza di voi rischia invece di avere una variabile paese stesso macchinario regola messico di un tipo regola svizzera un'altra colombia un'altra e sud africa quarta regola trama aziendale sì allora quale regola applico noi suggeriamo a tutti di applicare quella che noi chiamiamo essere la regola più restrittiva la peggiorativa nell'ottica del conferimento di origine delle merci ma come faccio a sapere qual è la regola peggiorativa ma devo leggere tutte queste gazzette ufficiali sì la risposta è tragicamente sì e quindi quella matrice che vi suggerivo di fare mi serve per prendere la visione di insieme di come cambiano non cambiano le regole di origine preferenziale per il mio prodotto in funzione del paese destino e per estrapolare la regola più restrittiva quella che cercherò poi di applicare nell'economia della mia distinta base di vita produttiva ma se non avete mai fatto questo gioco secondo me vi diventa impossibile firmare ad esempio una long time declaration se io fossi quella il fornitore di un esportatore che poi posso farmi anche le mie explodirette chi se ne frega ma quando io devo firmare una long time declaration nelle mani di un mio cliente che vuole esportare il cliente dovrebbe dirmi mi firmi una long time declaration va bene prendo un esame forse il volere trafirmare dovrei dire al cliente dimmi dove vai e ti dirò chi sei ma per quali paesi ti serve è chiaro che quel cliente che sta lavorando per il messico mi dice per il messico va bene apro la gazzetta ufficiale messico mi studio le regole del messico soddisfro la condizione del messico dico vai tranquillo in messico ma quel cliente che mi sta dicendo voglio una long time declaration per due anni no che si può far valere anche per due anni o uno questo può essere un giochi commerciali tra le parti dico dove vai dove voglio no mi devi dire dove vai vuoi sapere dove vado ti metto tutti i 60 paesi accordisti ma sei così grande che veda per tutto fattacci miei io voglio essere coperto da te fornitore per tutti i 60 paesi me la firmi o non me la firmi se io dico sì te la firmo io fornitore vuol dire che le regole della mia voce giornale di tutti i 60 paesi me le sono guardate le gazzette ufficiali me le sono date tutte soddisfo tutte le condizioni con la mia distinta base allora se ho questa convinzione te la firmo perché no ma se io le gazzette ufficiali non l'ho mai lette non so quali sono le condizioni previste dal paese per il paese fermare una long time declaration in qualità di fornitore di un esportatore è un alzardo pazzesco leggetele quelle long time declaration c'è scritto che il sottoscritto fornitore si impegna a fornire immediatamente le prove del carattere preferenziale delle merci chi deve fornire queste prove e il giorno in cui il mio cliente esportatore esporta dichiara che la merce preferenziale il giorno in cui la donna lo ferma e dice perché l'hai detto usera la long time declaration letteralmente come scarica barili le responsabilità dice non mi l'ho detto ma perché me l'ha detto lui eh io del nevo srl noto esportatore ci ho chiesto una long time declaration al mio fornitore quality services e loro me l'ha firmata e io esporto mi fermo dice perché l'hai detto ma perché me l'ha detto la quality service ma quando te l'ha detto no non me l'ha detto ma l'ha scritto allora uso questa dichiarazione come scarica barili prendetela con la quality service dai quality service dammi le prove del carattere preferenziale ce l'hai vi sono tutti felici e contenti non ce l'hai sei tu che hai fatto la falsa dichiarazione caro fornitore quindi attenzione che viene usato come scarica barili di responsabilità ok il se la sedia scrive ha stesso includere in sede di contratto con il nostro cliente una claudola dove si garantisce a prescindere da ogni altra cosa la preferenzialità del nostro prodotto a livello contrattuale possiamo aggiungere queste clausole sicuramente è chiaro che se fornitore che immagino sia rivolta ad un fornitore sottoscrive questa dichiarazione si sta prendendo un impegno decisamente importante quindi è pericoloso non per chi acquista ma per chi vende impegnarsi no garantire una preferenzialità della merce perché se mi sono preso un accordo contrattuale poi non posso dire in sede di spedizione beh ho scherzato guarda che la merce non è preferenziale e no non sei sei inadempiente contrattualmente a quel punto quindi per chi compra assolutamente sì ehm eh per chi vende è pericoloso molto pericoloso no ehm il fornitore eh si scrive poi deve avere dietro una struttura aziendale che lo supporti no perché se mi sbilancio dico sì sì garantiamo tutta la preferenzialità poi il sistema azienda deve aver già ragionato a priori per essere sicuro che tutti quegli articoli che andrò vendendo saranno veramente preferenziali ora vi dico che in materia di origine preferenziale ancora più del made in il rapporto con il fornitore diventa la base di tutto no per la commerciale tutto per la produttiva è tanto ma allora qui iniziano a giocare dei formal comunitari no il fornitore può dichiarare per con fornitura per fornitura può dichiarare a lungo termine può fare quello che vuole può non dichiarare assolutamente sì è un gioco di forza commerciale ancora una volta il cliente chiede il fornitore decide se rispondere allora il format della dichiarazione di origine preferenziale è un format previsto dall'Unione Europea mentre per il made in quando vi dicevo chiedete ai fornitori a parte chi si aggrappa alla long term declaration in materia di origine preferenziale in realtà nel made in non c'è un vero format comunitario per l'origine preferenziale il format c'è e come è previsto dal preistorico regolamento 1207 del 2001 poi incorporato nel codice doganale dell'Unione Europea quindi oggi è un allegato del codice e questo allegato del codice doganale prevede un form di long term declaration in cui c'è scritto cosa il sottoscritto fornitore su sua carta intestata in qualità di chi sei il legale rappresentante lo stagista chi sei devi essere un legale rappresentante deve essere un procuratore deve essere qualcuno che ha un potere di firma con nome e cognome dichiara che le merci quindi seguito descritte descrivele non tutte le merci come piace molto scrivere ma le devi descrivere qual è il modo migliore per descriverle in maniera univoca codice per codice articolo codice mio codice tuo discutiamone va bene qualunque cosa è chiaro che se l'ufficio acquisto è forte dice no codice mio di acquirente mi raccomando siamo le dovute trascodificare però codice per codice io compro diecimila codici e scrivimene diecimila metti gli allegati che vuoi citi tutti i codici che ti interessa ma me ne scrivi tutti allora per i diecimila codici che mi dici sì e sì per i mille che mi dici no e no e questo è già una battaglia pazzesca assolutamente pazzesca ok allora diciamo che quindi l'elenco dei codici è questo che sono regolarmente forniti dal nevo srl noto esplodatore italiano sono di origine preferenziale puntini puntini ue mi raccomando ue sono di origine ma in vent'anni anche faccio un micro stile ma anzi in realtà sono più di vent'anni sono stato ottimista sono di origine cina ma come cina ci sto chiedendo se la merce preferenziale non può essere cina mi devi parlare di ue puoi dirmi al massimo italy france o germany ma mi devi dire che sono preferenziali ue ue barra italy mi sta bene ma deve essersi ue se non c'è ue c'è qualcosa che non va allora poi signora chissina rispondo tra poco perché mi sta provocando sul cumulo e spero che siate seduti quando parlo del cumulo e quindi adesso proverò a spiegarlo facendo del team perché è un tema molto complesso ma ci proviamo e andate felice e quindi la logica è ue e rispondere norme in materia di origine pensale con e con chi chi l'ho detto all'elenco dei paesi per me l'ufficio acquisti e l'acquirente che deve avere soddisfazione da quell'elenco perché se io non ti dico nulla caro fornitore tu puoi dirmi mi è simpatico il messico ti dico vai tranquillo in messico ma io che sono ufficio acquisti clienti ma io non vado in messico perché mi parli del messico non mi hai detto dove vai e io che paese prendo riferimento dimmi quali che ti interessano e ti rispondo è chiaro che quindi se lavoro sul commesso ne metto uno due ma se lavoro a stock ne metto tanti forse anche tutti ma forse si mette anche quelli dove non andrò mai perché chi se ne frega a me ufficio acquisti parlare di 50 60 paesi mi chiedo al fornitore preferisco chiedere 60 che 50 perché se te ne chiedo 50 in corso d'anno mi arriva il 51esimo paese non ho la dichiarazione del fornitore allora nell'entusiasmo te ne chiedo 60 è chiaro che il fornitore quando si trova l'elenco 60 dice ma questo ma va davvero a tutti questi paesi del mondo sì o no se voglio firmare devo studiarmeli tutti i protocolli di origine quindi io dico se fossi ufficio acquisti se voglio che il fornitore mi risponda ma te la faccio io la dichiarazione te la preparo io ti metto dico solo devi metterlo solo su carta intestata ti metto tutti i codici di quello che compro da te ti metto tutti i paesi che mi interessano poi semmai tu mi stralcerai qualche paese ma te lo dico io di cosa ho bisogno perché se no ti lascio carta bianca caro fornitore tu mi chiami le cose che a me non servono eh allora da casa ho risultato inutile che tra l'altro mi costa un sacco di fatica perché chiedere è l'esito ma non è automatico che tutti i fornitori mi rispondano eh non c'è niente di automatico in questo gioco io vi assicuro che nella vita eh insomma io ho detto vent'anni ma sono di più in cui faccio questo mestiere mi sono completate grosse realtà aziendali che mi dicevano io ho paura dei fornitori ma li conosco ho paura che questi non abbiano capito niente mi rispondano non abbiano capito niente non mi rispondono ma io le risposte le voglio devo mettere su un sistema origine che stia in piedi c'è chi ha affittato un cinema e detto venga qua un giorno chiamiamo tutti i fornitori lei sta tutto il giorno a spiegare ai fornitori cosa gli chiediamo c'è chi mi ha detto mettiamo su un portale i fornitori caricano nel long term declaration se hanno dei dubbi mettiamo un help desk che il cliente chieda e rispondo io per conto dell'ufficio acquisti che non ha voglia di rispondere ai suoi fornitori è successo anche questo abbiamo convocato tutti i fornitori in azienda di grandi dimissioni per spiegare prima loro cosa avremmo chiesto per maniera tale da dire poi ce l'abbiamo anche spiegato non puoi nasconderti dietro il non ho capito la domanda caro fornitore vale tutto pur di portare a casa il risultato ma comunque troverete sacche di resistenza sì al parco fornitori è normale perché il fornitore che cosa si guadagna a dichiarare nulla se non deve rimanere un fornitore non ha un beneficio economico nel dichiarare qualcuno intanto ha detto aveva allora mi costringendo a creare un sistema origine mi costa dei soldi mi paghi e ti rispondo c'è anche chi risponde male così non è facile farsi pagare dal cliente un sistema origine però ovviamente sono tutti giochi di forza commerciale che si possono mettere sul campo no però udite udite nella long term declaration così come nella dichiarazione fornitura per fornitura perché il fornitore può anche decidere di non fare una long term declaration al fornitore che decide io ti dichiaro ogni volta che me lo chiedi io te lo dichiaro ma non te lo dichiaro a lungo termine perché io non te lo voglio a dichiarare a lungo termine perché magari sono quell'azienda che ha le merci quotate in borsa merci zinco rame stagno e a seconda dell'oscillazione del prezzo e mi cambia l'origine preferenziale e non ce la faccio dietro come cambiano i prezzi da qui a un anno o due anni addirittura quindi ogni volta che me lo chiedi ti rispondo a tono però fornitura per fornitura c'è chi mi dice si aveva un anno posso anche farcela due no c'è chi dice un processo stabilissimo materie prime stabili non ho problemi a fartelo anche per il biegno c'è chi lavora a collezione settore tessile può essere la collezione primavera estate avuto d'inverno e lui che dichiaro vent'anni due anni no tanto stiamo parlando solo di questa collezione qui prossimo giro altri prodotti altri articoli altri origini altro tutto forse il allora la dichiarazione ha un effetto futurista biennale ha un effetto retroattivo massimo annuale il quindi come sta scrivendo seno amarica in questo momento una casistica che pare capitare spesso loro i clienti che hanno acquistato merce ad esempio nel 2020 2021 ora 2023 ci chiedono di creazione di origine preferenziale relativamente a quella merce se la cavanarica scrive posto che noi siamo in possesso all'ontanico del fornitore relative all'anno incriminati la possiamo emettere al cliente con una data attuale no la realtà è no perché io non posso dare un effetto retroattivo superiore ai 12 mesi poi il cliente sempre il cliente e quindi qui lo dico qui lo nego anche se siamo registrati ma io potrei fare una dichiarazione con data di allora se voglio accontentare quel quel cliente che mi sa tanto a cuore e quindi con data falsa posso fare queste dichiarazioni ok il pro aggiunge se sì dobbiamo indicare che è valida per lo scambio solo con i paesi indicati nella dichiarazione relativa all'anno d'acquisto e sì cioè non avrebbe senso fare dichiarazione oggi per allora con paesi che allora neanche erano accordisti sembrerebbe piuttosto anacronistica no come come dichiarazione ok allora in questa battaglia di elenco paesi cosa succede è la battaglia ovviamente è io ti chiedo 60 paesi e tu mi richiari 60 siamo tutti amici come prima io ti chiedo 60 tu mi rispondi con 40 caro fornitore perché me ne parli di 40 se sono chiesti 60 diciamo scusa mi sono indicato i 20 allora integra nella dichiarazione parla me anche dei 20 dimenticati oppure fornitore dice no ma che non sono mica dimenticati io lo studiate bene le regole di origine il mio processo produttivo mi consente di soddisfare le regole dei 40 ma non per i 20 inutile che esisti per i 20 ti dirò sempre no questo un dramma perché diceva la dichiarazione perché vuol dire che devo tracciare quelle merci preferenziali sì per i 40 e no per i 20 e devo avere un sistema origine bello tosto in azienda bello in grado di gestire tutte queste differenze tra merce preferenziale stesso articolo che sarà preferenziale se va in Gran Bretagna ma nello stesso tempo non è preferenziale se andasse in Svizzera uscitene vivi da questo gioco senza un software a supporto vi dico che esistono anche i software adesso è che gestiscono il mondo origine origine preferenziale finalmente sono usciti causa appunto domanda delle aziende che stanno iniziando veramente a entrare nel merito di questa di questa origine perché io ho iniziato a fare i miei seminari in presenza nel preistorico 1996 e parlavo degli stessi concetti che vi racconto oggi ma vi assicuro che non mi stava a sentire nessuno è lo classico predicatore del deserto però oggi parlo delle stesse cose di allora e c'è male perché qualcuno si è scottato le dita qualcuno si è preso delle denunce penali perché anche l'origine preferenziale se dichiarate in maniera non corretta è una dichiarazione di un atto pubblico al pari di quello che è combinato in camera di commercio se dichiarate un'origine non preferenziale un made in che risultasse non veritiero false dichiarazioni in atto pubblico signorazione a procurazione pubblica procedimento penale quindi negli anni qualcuno ha iniziato a scottarsi pesantemente le dita e allora chiaro che quando arriva il mio turno faccio fatica a dire chi se ne frega allora diciamo questo la long time declaration ha un altro punto cruciale a parte l'elenco dei paesi che può diventare una vera battaglia nel rapporto cliente fornitore il motivo su cui molti fornitori si nascondono per non firmare la dichiarazione è quello che ci chiedeva la signora Cristina perché nella long time declaration c'è un punto in cui viene scritto cumulo applicato con puntini puntini cumulo non applicato uno dei tratti più ermetici della dichiarazione nel rapporto cliente fornitore perché io credo che in molti questo passaggio non ce l'abbiano chiarissimo il tanto se la Silvia chiede immagino che questi software funzionino bene se si parte dal presupposto che i fornitori siano gestiti rispondono a chiedersi questo confermo il software non fa miracoli nel senso che se i fornitori non rispondono il software non può inventarsi assolutamente nulla però quello che può fare è gestire le tempistiche automatizzare il lancio della long time declaration la ricezione il carico delle stinte base l'uscita dell'output la creazione della fattura ma tutto un sistema che funziona ma se partiamo dal presupposto che i fornitori non rispondono il software manca dell'informazione basilare quindi questo non voglio creare false illusioni a nessuno allora diciamo che ecco se no qui adesso sto scatenando il panico nazionale San Sabrina se essendo narrata l'indicazione del made in fatture non tramite i variatori origini viene considerata sempre una falsa dichiarazione sì perché comunque la fattura viene usata in dogana e l'atto doganale è un atto pubblico quindi bisogna starci un po' attenti perché potrebbe nascere anche qui un risvolto di carattere penale meno frequente mi permetto di dire però sì può nascere anche qui un risvolto anche di carattere penale ok allora vi dicevo siete seduti sì non vi vedo spero sì perché il termine del cumulo può essere assolutamente sconvolgente allora rispondo all'ultima domanda se una simona nel caso di bene preferenziale ue in fattura cosa dobbiamo indicare dobbiamo indicare sempre merce originale ue più paese di origine allora rispondo dopo mi permetto di rispondere dopo se una simona perché la logica dell'origine preferenziale risponde ad un format di dichiarazione ben ben preciso non basta scrivere merce preferenziale una frase standard che devo mettere in calcio la fattura quindi mentre il made in lo indicherò a livello di riga dettaglio questo made in italy questo made in france questo made in china re italy france germany riga dettaglio in calcio la fattura metteremo una frasetta che tra poco vi racconterò una frasetta che risulterà libera nel senso che non richiederà una preventiva autorizzazione doganale nella misura in cui il valore spedizione sarà inferiore 6.000 euro ma richiederà un passaggio di autorizzazione doganale per tutte le spedizioni di valore superiore 6.000 euro però volevo provare ad adentrarmi nel cumulo so che un tema tosto per cui mi scuso subito per chi non riuscirà a comprenderlo e se questo fosse il finale di nuovo non può essere che colpa mia però provo a dirvi questo premesso che ci sono tanti cumuli e questo non ci aiuta io credo che il cumulo che potreste incontrare aziendalmente voi sono fondamente due più frequenti il cumulo bilaterale e il cumulo diagonale poi ci sono cumuli totali se non voglio oggi non avevamo ne tempo ne voglio di esagerare però partiamo dal cumulo bilaterale che è il più semplice concettualmente ce l'hanno praticamente tutti i paesi accordisti tutti i paesi con i quali l'unione europea ha fatto accordi di origine preferenziale cosa si intende con un cumulo bilaterale prendiamo un esempio gran bretagna sono l'azienda italianissima che fa un macchinario bellissimo in cui utilizzo un motore inglese ci stanno mi posi che può essere anche realistica per qualcuno io faccio il mio macchinario in italia guardo le sinta base guardo la voce canale guardo l'accordo brexit perché voglio venderlo in inghilterra ok guardo dico mannaggia a me mi invento e qui sto inventando delle regole di pura fantasia potrei avere un'incidenza di componentistica extra way al 30 per cento massimo guardo le sinta base guardo ma solo il motore inglese vale il 35 per cento non ce la farò mai a dire che il mio motore è di origine preferenziale diciamo che lo vendo a 100 diciamo che la sommatoria dei componenti non preferenziali cuba 40 ha una regola al 30 già finita perché ho un motore 35 per cento altri componenti vari valgono 5 mia sinta base tutta la componente extra way cuba 40 più del 30 è finita il mio macchinario ci va in inghilterra e come che ci va mi chiedono se è made in italy magari posso dire anche di sì rispetto alle regole di che so io di un cambio di voce o canale ma è preferenziale way no no e no perché ho dei componenti extra way troppo pesanti in termini di valore base alla regola brexit allora l'ufficio commerciale potrebbe innervosirsi dicendo guardate che qui i nostri macchinari in inghilterra non ne vendiamo più uno questi pagano il dazio non siamo competitivi i nostri concorrenti regalano origini preferenziali agli inglesi e quindi ci stanno rubando il mercato vado all'ufficio acquisti dice caro collega trovi un'alternativa trovi dei fornitori che siano alternative che se mettiamo troppa componentistica extra way non ce la faremo mai a dire che la merce preferenziale ma se il motore inglese vale 35 per cento cosa faccio io già solo quello e trovare un fornitore alternativo cambiare il motore non lo trovo però fermi tutti il cumulo bilaterale mi permette in realtà di fare una finzione giuridica mi permette di far finta che quel motore inglese lavorato e incorporato nel mio macchinario che ritornerà in inghilterra sia preferenziale way quindi la medicina base prezzo cento 40 per cento extra way il motore valeva 35 extra way perché se io quel macchinario lo comprassi cioè se lo realizzassi con quel motore per vendolo in svizzera il componente extra way è 40 non ci piove ma nel momento in cui lo rivendo in inghilterra io nell'economia della medicina base posso far finta che quel motore sia way e rimane gb è per carità ma faccio finta che sia way quindi 40 di componenti extra way meno 35 perché il motore lo equiparo a merce way ci rimane 5 di preferenza di non preferenziale ampiamente sotto il 30 per cento io racconto all'inglese che gli vendo un macchinario di origine preferenziale way cumulato con gb e questo ha lo stesso effetto di una merce preferenziale pura way e il cliente inglese non paga il dazio ma quella finzione giuridica di far finta che il motore inglese sia preferenziale è accettabile solo se il motore viene incorporato in un macchinario che ritornerà in gb qualcuno potrebbe dire ma è appena finito di dire che se la merce è one way sì è vero ve lo straconfermo ma nel momento in cui quel motore inglese viene lavorato incorporato in un macchinario viene equiparato a merce way solo se ritorna nel paese di provenienza la possa fare con il gb con la svizzera con la giappone con la corea con tutti i paesi che volete e questo è il cumulo bilaterale ribadisco quel macchinario fatto col motore inglese più altri componenti che il cumulo 40 se va in svizzera non è preferenziale perché non è ammissibile il cumulo bilaterale se arriva una merce da gb e poi vendo il macchinario in svizzera ok cumulo diagonale io non vi vedo in faccia perché qui non so con quale entusiasmo mi state seguendo questo a volte in aula la percezione è più diretta e forte del quanto non ve ne freghi niente del cumulo però la domanda è stata fatta io rispondo perché c'è stata una domanda cumulo diagonale e cumulo diagonale vi potrebbe interessare se coinvolgete nel ciclo produttivo più di due paesi quindi tre o quattro spero non cinque e tutti questi paesi coinvolti nel processo produttivo appartengono all'accordo pan euro mediterraneo cos'è l'accordo pan euro mediterraneo è l'accordo fatto dall'unione europea con un gruppone di paesi il tuo grosso accordo di origine preferenziale che l'unione europea attualmente in essere e i paesi chi sono? Svizzera, Norvegia, Islanda, le mitiche isole for air che non frega niente a nessuno sempre in mezzo Albania, Montenegro, Serbia, tutti i Balcani, Turchia, Israele, Marocco, Tunisia, Egitto tutto il Nord Africa, tutti i Balcani, Svizzera, Norvegia, Islanda, isole for air questi sono grossolanamente i paesi che fanno parte dell'accordo pan euro mediterraneo e sono i paesi che accettano il cumulo diagonale. Cosa vuol dire il cumulo diagonale quindi? Se faccio un esempio simile a quello di prima sono la solita azienda che fa il macchinario sto vendendo disperatamente il macchinario in Svizzera la regola della Svizzera mi pone sempre il 40% scusate 30% mi pone la condizione del 30% guardo l'estinta base dico ma no sono di nuovo al 40% non ce la farò mai a vendere il mio macchinario definendolo preferenziale in Svizzera. Lo commerciale vado a faccio acquisti e dice trovami delle alternative qui non funziona non vendiamo più nulla allora che alternative mi trova l'ufficio acquisti? Fermi tutti ho trovato stavolta sono bravo ho trovato un'alternativa ci sono dei fornitori cinesi che da soli cumano tutti i numeri a caso il 15% io potrei trovare un serbo come alternativa al cinese commerciale non capisci niente da un extra way mi hai trovato un altro extra comunitario non mi hai risolto il problema e invece no ufficio acquisti sei un genio mi hai trovato un extra comunitario cinese che mi stai sostituendo con un extra comunitario del panero mediterraneo il e ce l'è fatta mi è risolto il problema perché io nel mio processo produttivo quando incorporo nel mio macchinario quel componente che è diventato serbo che il servo mi spedirà con un euro 1 dicendo che è emerso di origine sare serba quando vado nell'economia nella mia sinta base io posso fare quella finzione giuridica che mi permette di dire 40% oggi la coincidenza componente extra way meno il 15% il serbo che ho fatto finta essere comunitario scivolo al 25% che è minore del 30% quando vendo la merce in svizzera paese del panero mediterraneo posso dire che il mio macchinario di origine veneziale è cumulato con la serbia lo devo dire in quale percentuale fattacci miei non vado a raccontare però devo dire che c'è stato un decisivo intervento della serbia senza il quale non ce l'avrei fatta a raccontare che la mia merce era preferenziale non so se qualcuno si è perso adesso la barbara chiede di poter leggere delle slide serali per dormire meglio sul cumulo dunque le slide se le abbiamo sul cumulo onestamente non mi sono mai perso troppo nel fare le slide perché è sempre un tema molto marginale che per quel che so io del tessuto industriale interessa moltissimo il mondo tessile che sopravvive di cumuli perché per dare un'idea di una logica tessile eravamo un popolo di tessitori estinto carpi, biella, varese, como non c'è più nessuno col telaio e quindi andiamo a comprarci tessuti ma molte delle regole di origine preferenziale di vari prodotti tessili mi dicono è infilato ancora ancora te lo compri in extra way ma la tessitura devi farmela nella way e se ti compri un tessuto non c'è più niente di preferenziale si compri un tessuto in extra way però grazie al cumulo io posso comprarmi tessuti in Turchia, in Marocco, in Egitto e far finta che siano preferenziali way per poter raccontare che so io che il mio capo d'avvigliamento finito è di origine di utilizzare way accumulato col Marocco e questo mi permetterebbe di rivendere il prodotto definendolo preferenziale way accumulato solo all'interno del paneuro mediterraneo mi raccomando allora cosa succede nel rapporto cliente fornitore io sono d'accordo con quello di scrivere signora Barbara il il cumulo se lo conosci è un'opportunità commerciale se non lo conosci lo eviti e questo fa parte del gioco no e se impari a conoscerlo è una veramente un'ottima opportunità perché possiamo raccontarci visioni buoniste o meno buoniste del mondo ma la verità è che io azienda industriale italiana posso sfruttare e quello dico in maniera brutale manodopere a basso costo i paesi magari del nord Africa per portarmi a casa dei prodotti che mettono il mio ciclo produttivo facendo finta che siano comunitari sì questo può essere una visione brutale del mondo ma ci sta assolutamente quindi diventa un'opportunità certo che se non lo conosco è meglio evitarlo perché faccio dei disastri epocali perché nel mio gestionale io devo imparare a capire a questo punto che potrei avere merci preferenziali pure perché le definisci pure quelle merci che soddisfano le regole per essere definite preferenziali che le vendo a qualsiasi paese accordista perché i fornitori mi ha detto che possono essere definite preferenziali per tutti i paesi accordisti avrò merci che i fornitori mi hanno detto non c'è niente di preferenziale qua e quindi mi rassegno e dirò sempre no a tutti avrò merci preferenziali accumulate soprattutto quando c'è il cumulo diagonale che saranno preferenziali se vendute nel paneuro mediterraneo ma non saranno più preferenziali se vendute fuori dal paneuro mediterraneo e qui vi voglio vedere in azienda gestire questi flussi intrecciati pericolosamente senza software non ne uscite vivi ma veramente però sono d'accordo se imparo a gestirli ma ben venga anche il cumulo altrimenti il mio slogan è no cumulo no party non meglio evitarlo e se non abbiamo capito niente di quello che ho detto è meglio evitarlo perché facciamo disastri epocali e una delle cose peggiori che possa capitare all'ufficio acquisti è il fornitore a cui chiedono a on the declaration che c'è la domanda cumulo applicato cumulo non applicato il fornitore dice scusa mi spieghi il cumulo e vi voglio vedere a spiegare sto cumulo adesso che non è facile trasmettere questo concetto al parco fornitori ma peggiore 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 perché non c'è limite al peggio è il fornitore che dice l'ho capito ho fatto cumulo quindi mi scrive ho fatto cumulo con la marocco e voi che ci fate con un fornitore che vi vende una materia prima che ha fatto cumulo col marocco o imparo a gestire i cumuli perché quella materia prima che ha fatto cumulo col marocco sarà spendibile come preferenziale solo se andrò nel pannello mediterraneo a produrre quel bene o dico non so gestire il cumulo quindi è come se mi avessi detto che la merce non è preferenziale web ora non voglio esagerare sul cumulo perché poi perderò metà dei partecipanti della nostra chiacchierata non mi è chiaro qual è la regola per poter accumulare un prodotto extra web con il cumulo diagonale solo se vediamo un articolo nel pannello mediterraneo sì la spendibilità del cumulo diagonale avviene solo all'interno del pannello mediterraneo quindi deve partire una materia prima da un paese del pannello mediterraneo essere lavorata da un paese del pannello mediterraneo essere venduta da un paese del pannello mediterraneo questa è la condizione necessaria che la sto brutalmente semplificando perché la verità che c'è una tabella pubblicata periodicamente l'unione europea che viene nel gergo tecnico chiamato battaglia navale dove in realtà devo anche capire se tutti i paesi che coinvolgono il cumulo si sono ratificati l'accordo tra di loro quindi se partissi dalla serbia lavorando l'unione europea e svizzera devo capire se sono attive e non lo sono tutte le relazioni tra serbia un'unione europea un'unione europea svizzera svizzera serbia se tutte sono attive il cumulo funziona se c'è un paese tipo l'alzeria che coinvolgessimo il cumulo che non ha ratificato tanti accordi come si scioglie miseramente nonostante siano tutti i paesi del pannello mediterraneo quindi il gioco ha dei profili di complicazioni notevoli ma visto che il cumulo su alcuni prodotti tipo il macchinario è di creazione valida solo su quel macchinario per quella specifica commessa quindi a volte può essere un altro problema assolutamente può essere un'ottima opportunità sì 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 io sono pienamente d'accordo se imparo a gestirlo è un'opportunità vero come tutte le opportunità non ho nessun obbligo però se ho dei fornitori che rifilano merce che arriva da questi paesi del pannello mediterraneo tra cui ricordiamoci pure la turchia che piccola non è per cui prima forse non l'ho nominata ma la turchia è un paese del pannello mediterraneo quindi materiali dalla turchia ne arrivano insomma volendo in quantità veramente importanti sì sono d'accordo con quello di Sessiona Barbara può essere una grande grande opportunità ok nel rapporto cliente fornitore è chiaro che la long time declaration va timbrata va firmata da un legal rappresentante qualcuno chiede anche il documento di identità di chi firma a me sembra un eccesso di zelo se fossi un legal rappresentante non avrei piacere che il mio documento girasse per tutta Europa però devi qualificarsi devi dire chi sei io ho sottoscritto del nevo si muore in qualità di legal rappresentante chi sei quindi a che titolo in qualità di stagista no grazie in qualità di legal rappresentante ok su carta intestata mi giri e io ricevo io conservo quanto la conservi la long time declaration minimo 3 barra 5 anni per tutti i protocolli di origine chiedono 3 la Corea del Sud ne chiede 5 nell'entusiasmo che teniamola per 5 anni direi così non sbagliamo mai quindi chiunque voi siate clienti o fornitore penso che di long time declaration abbiate visto girare tante ma tante tante a volte sì il fornitore preferisce girare con l'indicazione fornitura per fornitura va bene sua libera scelta nulla nulla da eccepire no senso che alcuni fornitori proprio non possono rilasciare long time declaration per effetto il loro ciclo produttivo che ondivago e subisce anche pesanti davvero oscillazioni in termini di prezzo no ma allora se portiamo a casa le dichiarazioni abbiamo detto che le conserviamo le rinnoviamo avete capito che siete entrati in una ruota che gira e non si ferma mai mai più voi non potete fermare la ruota perché ogni anno ogni biennio qualcuno chiede qualcuno rinnova qualcuno sollecita infatti si è portata la long time declaration valida biennale perché a volte non si finisce ancora di portare a casa le dichiarazioni di un anno che siano già finiti all'anno successivo perché non è che tutti smanino di fare dichiarazioni è una battaglia una battaglia a clienti e fornitori in settori un po' più precisi oserei definire un po' più rigorosi ormai gli uffici acquisti hanno messo su un rating nel parco fornitori in cui valutano anche il fornitore in base al fatto se è in grado o meno di rilasciare long time declaration se è un fornitore che rilascia long time declaration se è un buon fornitore se è un fornitore che non mi è in grado di rilasciare le dichiarazioni a lungo termine e scivoli scivoli nel mio rating però scivoli di qui scivoli di là ad un certo punto forse non sei neanche più un buon fornitore quindi ti faccio fuori il settore automotive ad esempio sta ragionando molto in questi termini diciamo che cosa mi servono le long time declaration ho detto come scarica barile di responsabilità sul fornitore come le porto a casa io direi via mail ordinarissima qualcuno dice la PEC sì va bene la PEC nel rapporto Italia su Italia ci può anche stare ma nel rapporto UE su Italia perché io il fornitore ce li posso avere anche UE la PEC non sa neanche cosa sia fornitore non posso impostare lo sistema sulla PEC e cosa faccio la raccomandata con la busta col piccione viaggiatore no io direi PEC no mail ordinarissime sì pdf sì la ragionerei sicuramente così è chiaro che se l'ufficio acquisti si sbatte porta a casa le dichiarazioni e rimangono dei fogli però sulla scrivania l'ufficio acquisti un lavoro quasi inutile per me il step successivo sorteggione aziendale troviamo un volontario che tutti quei codici articolo che i venditori mi hanno raccontato se preferenziali mi ricarichi a sistema qui sì che iniziamo a ragionare però sì che inizia a avere quel famoso flag in cui vi ricordate avevo detto il mio sogno d'apertura io per ogni articolo inizierò avere qualcuno che mi ha ricaricato l'informazione se l'articolo è made in Italy France o German in base alle dichiarazioni dei fornitori o in base alla mia distinta base e poi ho una seconda casella in cui dichiarerò preferenziale sì o preferenziale no a seconda del mio ciclo produttivo che ha fatto non ha fatto la donazione sufficiente o a seconda di creazione del mio fornitore che mi ha testato il carattere preferenziale. Allora fatto questo è chiaro che tutto quello che ho comprato riesco a tracciarlo tutto quello che ho tracciato me lo porto dove? In distinta base se sono a dita produttiva oppure lo replico tal quale se sono a dita commerciale. Allora la mia distinta base deve iniziare a ragionare deve iniziare a capire a leggere riga per riga 10.000 100.000 riga ho visto distinte base le 100.000 righe comodamente e umanamente non ci capisco niente quindi deve essere il software che inizia a leggere riga per riga e capisce cosa c'è di sì cosa c'è di no preferenziale di già comprato e a questo punto regole di origine preferenziale alla mano la distinta base inizia a battezzare se il mio processo lavorazione ha fatto o non ha fatto la lavorazione sufficiente facendomi uscire un output che è un prodotto finito interamente preferenziale sì o interamente preferenziale no non può essere così il ragionamento eh però chiaro che se non ho alimentato i dati di distinta base cosa faccio a manina al conteggio? Eh qualche volta qualcuno mi dirà purtroppo sì eh però a me piacerebbe più che lo fosse un no ehm ok il così come dice la signora Barbara visto che eh parliamo di Turchia compro un prodotto dal rivenditore italiano ma la merce è prodotta in Turchia e lo rivendo in Albania un valore fra i 6.000 euro il bene è di origine Turchia ma se ho capito bene è una commercializzazione pura per cui sicuramente non non conferito origine quindi l'origine non può che rimanere Turchia eh assolutamente sì eh non c'è dubbio in materia di origine preferenziale non potrò certo dire che merce di origine preferenziale uè perché è turca eh e turca deve rimanere eh eh ok quando sarete in fase di export quando siete voi gli esportatori quando avete di fronte la dogana quando non siamo più nel rapporto cliente fornitore siete voi gli esportatori ma come le raccontate l'origine preferenziale in dogana? Eh questi sono gli strumenti no che avete a disposizione al di là del formato che ormai è andato in disuso perché eh ma è tutti i paesi in via di sviluppo che sono l'unico accordo unilaterale in cui si ragiona solo in import una volta c'era certificato forma ora viene sostituito dalle dichiarazioni di origine preferenziale su fattura che fanno i fornitori appartenenti ai paesi in via di sviluppo ma questa è una logica di import ragioniamo noi nell'essere degli esportatori venditori che vendono in extra way allora per attestare il carattere preferenziale delle mie merci io normalmente conferisco il mandato allo spedizioniere per emettere l'euro 1 ehm il il mandato lo do allo spedizioniere il quale spedizioniere emette fisicamente un pezzo di carta lo porta in dogana lo fa timbrare e l'euro 1 emesso in originale timbrato in originale scorta merci in originale deve essere presente in originale destino e questo permetterà lo sgravedaziario il documento più anacronistico del mondo un documento che nel 2023 deve morire un documento che deve essere estinto un documento che a breve morirà davvero mi stava scrivendo se metto una long term declaration per singolo articolo senza cumulo applicato in favore del mio cliente per quanto tempo devo conservare tale documento ma io direi che così come chi lo riceve lo conserva cinque anni io che lo rilascio lo conserverei per analoghi cinque anni eh ok il allora diciamo che la logica allora del mio essere esportatore in che cosa consiste io l'euro 1 non lo devo dimenticare lo dico subito quindi lo devo sostituire lo sostituire come con delle attestazioni su fattura perché questo è il presente futuro io credo che il presente futuro dell'attestazione di origine preferenziale in dogana sia fatto solo con attestazioni di origine preferenziale direttamente dico su fattura dicendo un'inesattezza eh perché la verità è che io posso attestare il carattere preferenziale delle vie merci su qualunque documento commerciale si tende a preferire la fattura perché non c'è operazione doganale senza fattura quindi la fattura è il documento che viene visto come eh documento principe per eccellenza però la verità è che va bene qualunque documento commerciale ma allora qualcuno già prima aveva chiesto ma che ci scrivo in fattura eh nel momento in cui voglio attestare il carattere preferenziale delle merci eh se la pinata mi sta dicendo magari togliessero l'euro 1 alcuni paesi ci massacrano ancora volendo innamorati l'euro 1 eh sì vi dico che la teoria è bella poi la pratica ha queste sfumature come qualche paese no che c'è riviato di origine legalizzato queste che io vi permetto di definire buffonate che lasciano un po' il tempo che trova però allora vi dico questo e ritorno alla vostra fattura perché in primi se la vedo lì la dichiarazione di origine preferenziale poi la verità che tutti i protocolli di origine mi dicono che io posso opporre la dichiarazione di origine preferenziale su qualunque documento commerciale perché la definizione è su qualunque documento commerciale si tende a privilegiare la fattura nella misura in cui la fattura c'è sempre non c'è operazione doganale senza fattura no? Allora diciamo che la frase in cosa consiste? La frase consiste in un testo di questo temore l'esploratore delle merci contemplate presente documento dichiara che arriva ok l'esploratore delle merci contemplate presente documento dichiara che c'è una indicazione contraria l'emersione di origine preferenziale web timbre firma attenzione che questa dichiarazione si definisce libera per spedizioni udito dite spedizioni non fattura per spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro quindi se facessi due fatture da 5.000 euro e partissero insieme la spedizione 10.000 faccio due fatture da 1.500 e 3.000 sono sotto i 6 nulla di male la logica quindi è che sotto i 6.000 euro io non ho bisogno di passare da una preventiva autorizzazione doganale per attestare il carattere preferenziale delle mie merci io scrivo semplicemente la fattura qui nel rispetto delle regole di origine preferenziale naturalmente quindi se io mettessi sulla fattura sul packing list o dove vi fa comodo voi inserire questa frase io dichiaro che l'esportatore io esportatore dichiara che le merci di questo documento quello che l'ho descritto qua dentro se non dico niente di contrario sono tutte automaticamente preferenziali web è chiaro che in fattura possa avere 50 articoli possa averne 40 preferenziali 10 no io metto la frase in fattura dico che tutto sì ma sui 10 no fermi tutti devo dire no aspetta Nati però questo è no questo è no questo ancora no altrimenti passano tutti per sì e sarebbe un errore grave sarebbe una falsa dichiarazione quindi la logica che a livello di riga dettaglio mi metto tutti i made in made in Italy made in France made in China dico in calce che tutto è preferenziale ma ritorno a livello di riga dettaglio dicendo questo no questo eventualmente ancora no e normalmente la spedizione mi massacra dicendo ok molto bella la tua dichiarazione ma alla fine mi riepiloghi cosa c'è di sì e cosa c'è di no preferenziali soprattutto in termini di pesi preferenziali distinti da quelli no e non è divertente fare una fattura a questi livelli tant'è vero che molte aziende mi dicono sai cosa c'è che a me quasi quasi piace di più fare due fatture distinte una anche se vanno insieme una tutta con la merce preferenziale e una tutta con la merce che preferenziale non è perché mi è più facile ovviamente devo fare dei riepiloghi a mano poco poco simpatici no se mi parla ancora dell'euro 1 se l'euro 1 si estingue come sarebbe opportuno che fosse si dovrebbe istruire le parti commerciali e clienti a non inserirlo come documento necessario nella lettera di credito soprattutto ovviamente quando l'azienda beneficia una licenza sì che la domanda è molto chiara se la Giuliana sì è chiaro che l'euro 1 spesso viene usato nelle lettere di credito in queste forme di pagamento un po complesse dove il pagamento avviene sulla letteralità dei documenti è chiaro che se l'euro 1 non c'è più il rischio che il cliente apra un credito documentario copiando magari un format di una precedente acquisto mi riproponga il tema dell'euro 1 ma se l'euro 1 non c'è mi diventa soddisfare questa questa condizione del credito se non soddisfare questa condizione del credito sono riserve sono deliri e quindi sono d'accordo i commerciali devono essere assolutamente allineati su questo cambiamento epocale perché se io come scrive signora Giuliana sono già azienda autorizzata dalla dogana a fare dichiarazione di origine preferenziale soffattura adesso vi spiegherò cosa consiste è chiaro che l'euro 1 non deve mai essere contemplato in nessun contesto delle mie esportazioni e signora Francesca mi sta chiedendo anche per l'euro 1 per il giappone per il giappone non c'è l'euro 1 lì proprio non c'è e lì ci saranno dichiarazioni soffattura libere sotto i 6.000 euro e sopra i 6.000 euro qui si aprono concetti nuovi che dobbiamo raccontarci insieme noi cosa voglio dirvi che sopra i 6.000 euro il mondo si divide tra potete forse signora Barbara è una domanda che avevo saltato prima inoltre per la verifica dell'origine preferenziale la percentuale dei prodotti extra è da calcolare sul costo no sul valore di vendita sì quindi sono incidenza di costi per chi ha giochi di percentuale incidenza di costi di acquisto dei componenti preferenziali no sul prezzo di vendita francofabbrica sì quindi favorevole perché i margini aiutano aiutano decisamente sì azienda che margina molto sì allora dicevo sopra i 6.000 euro di valor spedizione il mondo si divide il mondo dei paesi extracomunitari con i quali sono attualmente in esse d'accordo di origine preferenziale si divide si divide in due sottogruppi paesi che mi chiedono l'autorizzazione rex e paesi che mi chiedono lo status esportatore autorizzato allora che cosa stiamo dicendo stiamo dicendo che soprattutto i paesi rex sono tutti paesi che hanno accordi recenti chi è che risponde a una logica rex la Gran Bretagna il Giappone il Canada il Vietnam Singapore questi paesi mi dicono guarda che se tu fai una spedizione di valore superiore a 6.000 euro mi devi dichiarare su fattura che la merce è preferenziale ma devi passare da un'autorizzazione doganale l'iscritto non alla banca da t-rex del più famoso commissario che stavolta non c'entra nulla ma è una domanda che devo fare a chi alla dogana competente per territorio Parma di turno quindi io azienda parmigiana che devo fare un export in Gran Bretagna l'inglese vi massacra questa storia del rex 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 che cavolo devo fare fare rex faccio domanda al dogana di Parma una PEC oggi una PEC tra poco diventerà una custom decision che dovrà essere fatta attraverso il portale delle dogane quello stesso portale che già oggi vi divertite a usare per scaricare le bolle dogane di import perché è lo stesso portale in cui dal 7 settembre scaricherete le bolle dogane di export ma questo entrando in uno scenario completamente fuori tema rispetto al nostro webinar però spero che siete entrati nel cassetto canale ma questa è un'altra storia altro giro l'altra corsa vi auguro di essere entrati nel cassetto canale abbiamo già fatto un incontro in camera di commercio su questo tema comunque il cassetto è sempre quello comunque domanda a rex vuol dire cara azienda di Parma mi iscrivi nella banca da t-rex io quando faccio domanda a rex non devo neanche spiegare se vi serve per la Gran Bretagna a Giappone o al Canada voglio essere iscritto in banca da t-rex punto mi iscrivi mi dai un numero di autorizzazione e il mio numero di autorizzazione mi modifica in qualche modo il testo della mia dichiarazione sopra il simile euro in questi termini l'esportatore delle merci contemplate presente documento autorizzazione del canale numero dichiara che salvo indicazione contraria le merci sono dirige mensale web timbre firma o meglio nel rex no firma nel rex nel momento in cui sono iscritto in banca da t-rex la firma sotto il simile euro la posso anche mettere ma sopra sono automaticamente esonerato è automatico cosa che non vedremo altrettanto automatico nello status esportatore autorizzato quindi è chiaro che la domanda deve partire da voi la dogana nel momento in cui riceve l'istanza si prende 60 giorni per fare delle verifiche interne e decidere se siete azienda meritevole o non meritevole di essere iscritta in banca da t-rex ma non la vedete neanche col canocchiare la dogana non viene neanche in azienda non c'è l'audit preventivo cosa molto diversa per l'esportatore autorizzato perché l'esportatore autorizzato invece è quell'analoga autorizzazione che dovete chiedere in dogana sempre a parma dogana competente per territorio in base alla vostra ubicazione che però una domanda fatta paese per paese io per essere scritto per diventare esportatore autorizzato devo elencare alla dogana quali sono i paesi di mio interesse voglio lavorare per il messico chiedo messico voglio lavorare per sudafrica perché già ci lavoro questi paesi e chiedo anche sudafrica in una stessa istanza posso fare 10 paesi e porto a casa l'autorizzazione per 10 paesi il numero di autorizzazione lo userò per tutte le export nei 10 paesi mi arriva l'undicesimo paese che non avevo chiesto l'autorizzazione devo chiedere l'estensione dell'autorizzazione però attenzione lo status esportatore autorizzato così come il rex valgono vita natural durante la vostra azienda salvo revoche ma mentre il rex non prevede l'audit preventivo da parte della dogana esportatore autorizzato per procedura doganale prevede un audit preventivo prevede che la dogana venga a vedere chi siete come gestite l'origine preferenziale per cui una domanda non innocua attenzione la dogana non è che viene con l'intento di sanzionarci di denunciarci né di fare chissà che cosa ma viene se non avviene qualcosa a raccontargli ce lo devo avere una procedura che sta in piedi un sistema origine che funzioni deve essere presentabile altrimenti è meglio che non facciate questa domanda ve lo dico io per primo superato l'audito la dogana mi dà il numero e a questo punto il numero lo userò solo per i paesi autorizzati e l'elemento propedeutico la domanda è che questi paesi sono paesi con quali già lavoro non posso mettere l'Albania se non ho mai lavorato in Albania non è domanda ricevibile che la dogana mi dice solo nello status esportatore autorizzato scrivimi l'elenco dei paesi e la frequenza con cui lavori con questi paesi quante operazioni hai fatto nel biagno precedente scrivimelo e io valuto se la domanda è ricevibile o non ricevibile nel momento in cui ricevibile vengo poi a trovarti la marica scrive noi siamo esportatori autorizzati nelle fatture di ogni riga di vendita esplicitata all'origine delle merci poi incalcia la frase con il numero di autorizzazione dichiarano ok salvo dove è spessamente indicato diversamente le merci di origine sono UE ci sono due righe di vendita con merce UE e una riga con origine turca sta la dogana attribuire e recepire che la merce turca non ha lo stato preferenziale no non è la dogana qui siete voi che dichiarate lo spedizioniere eh che a questo punto deve compilare bene la bolla doganale concedendo non concedendo i benefici laziari potremmo essere problemi quindi sarebbe meglio a fare due fatture separate la scelta è libera eh chiaro che le due fatture separate a volte danno un'immediatezza di interpretazione la fattura unica impone a qualcuno di leggerselo il dettaglio della fattura purtroppo qui lo dico da doganalista perché o avrei la patente anche da doganalista non faccio bolla doganale però avrei la patente non mi piace parlare male di nessuno però capita che un eh dichiarante doganale nella fretta possa non leggere nel dettaglio eh il dato e creando ovviamente un problema quindi le due fatture distinte sicuramente ehm possono essere più chiare eh nella quotidianità di una compilazione della bolla doganale ehm una fattura unica potrebbe sfuggire nel suo dettaglio a chi sta compilando la bolla doganale no eh questo mh quindi libera scelta ma con sfumature eh sicuramente mh differenti tra loro ok allora dal punto di vista del questa origine preferenziale quindi posto che l'eruno muore posto che il futuro sono autorizzazioni indoganali posto che molti di voi ce l'hanno già ce l'avete invenuta la vita chi non ce l'avesse deve averle io credo che sia sempre più anacronistico essere un'azienda che ha forti relazioni con l'estero senza eh avere questa autorizzazione Rex da un lato è spottatore autorizzato si possono fare anche insieme le domande non c'è niente di male sia Rex che spottatore autorizzato assolutamente sì quello che vi dico come finale delle differenze tra le due autorizzazioni è che mentre il Rex una volta autorizzato la firma è automaticamente non più richiesta nell'esportatore autorizzato quella autorizzazione che mi serve per raccontare la stessa cosa che la merce preferenziale nell'export verso i paesi accordisti che non siano Rex quindi la Svizzera, Norvegia, Islanda, Messico, Colombia, la maggior parte dei paesi anche se diventa esportatore autorizzato la firma ci vuole a meno che l'azienda stessa non richieda espressamente l'esonore della firma ma qui dovete chiederlo voi se lo chiedete la Ghana vi concede l'esonore della firma cosa vuol dire chiedere l'esonore della firma vuol dire che ogni volta che parto una dichiarazione su fattura qualcuno si è assurdo la responsabilità il legal rappresentante su tutti lo procuratore che dir si voglia qualcuno in serie di autorizzazione dice toglietemi la firma me ne prendo la responsabilità ogni volta che esce un documento con la dichiarazione è riconducibile alla mia responsabilità ricordo un'ultima cosa perché poi quando si diverte il tempo vola e siamo molto vicini alla fine della nostra chiacchierata perché il mio orologio è stato un countdown degli ultimi minuti se farete mai triangolazioni e qualcuno di voi lo so che fa triangolazioni state attenti perché laddove c'è l'euro 1 è facile fare la triangolazione con l'origine preferenziale perché l'origine preferenziale segue la regola del trasporto diretto paese che conferisce origine a paese beneficiario quindi se io che so facessi vendita agli Stati Uniti consegna in Messico io fatturo agli Stati Uniti faccio l'euro 1 la merce va in Messico il messicano importa con fattura americana perché lui compra dall'America con l'euro 1 europeo e giustamente beneficia dell'esenzione daziaria garantitagli dall'euro 1 europeo con l'euro 1 funziona meraviglia ma se facessi la stessa triangolazione ma fatturo agli Stati Uniti consegna in Canada l'euro 1 non c'è perché il Canada è uno dei paesi rex uno dei paesi che non contempla neanche l'esistenza dell'euro 1 e quindi come faccio a raccontare al canadese che l'ha messa preferenziale UE lo metto su fattura ho l'autorizzazione sì ma la tua fattura in Canada non ci va per motivi di segretezza commerciale la tua fattura muore in America il canadese deve importare con fattura americana e l'americana in quanto extra UE non può attestare l'origine preferenziale UE li ha proprio vietato e ho capito ma allora il canadese solo perché faccio la triangolazione deve pagare il dazio no allora come faccio a raccontare al canadese che l'america soddisfa i requisiti per essere definita preferenziale UE lo metto su un altro documento commerciale non lo metto più sulla fattura lo metto ad esempio sul packing list questa frasetta l'esploratore delle merci contemplate presente il documento autorizzazione doganale numero dichiara che sa l'indicazione contraria è messo sul packing list in maniera tale che continua a fatturare in America faccio il packing list il canadese importa con fattura americana con un packing list europeo nel quale trova l'attestazione di origine preferenziale che gli è condizione necessaria e sufficiente per non pagare il dazio e vi sono tutti felici e contenti però questi sono automatismi che vanno creati eh non sono cioè se io creo un automatismo di fatturazione devo mettere in moto un meccanismo infernale tale per cui il computer deve capire che le attestazioni di origine preferenziale non sono legate al paese di fatturazione sono legate al paese di spedizione comanda l'essere una merce che va in Canada rispetto a una merce fatturata in America perché l'americano non gli racconterà niente in materia di preferenzialità ma al canadese glielo devo raccontare no non so se è chiaro questa sfumatura sul tema delle operazioni triangolari però se io ho indicato tutte le origini fattura se per sbaglio la merce turca viene comunque conteggiata come preferenziale in fase diventa un problema nostro in prima battuta sia cioè la canadese la prende sempre con l'esportatore poi dovremmo dimostrare che i documenti erano talmente chiari talmente belli che non si potevano sbagliare il dichiarante di un canadese la sbaglia tra lo stesso ora qui intervengono i mandati le istruzioni quanto era chiaro quanto non ero chiaro colpa mia colpa tua ma in prima battuta i principali colpevoli sono l'azienda esportatrice la quale poi si difenderà dicendo ma il dichiarante doganale non capisce niente era chiaro ma dimostra a me il dichiarante doganale che il documento era così chiaro se era chiaro mi prenderò responsabilità se invece il dichiarante doganale ti dimostra non si capiva niente nella lettura della fattura forse è più colpa vostra che mia di dichiarante doganale no per intendersi allora al mio orologio ormai mancano 60 secondi quindi io direi che possiamo avviarci verso la fine della nostra chiacchierata non ho risposto a tutti sono consapevole ho perso qualche domanda qua e là me ne scuso per chi si sentisse discriminato ma non è una cosa voluta quindi spero comunque di aver dato un'idea di quelli che sono i concetti principali forse è un argomento che merita molto più tempo per essere approfondito in tutte le sue sfumature per insomma non era questo l'obiettivo di risolvere tutto oggi poi forse c'è ancora una domanda finalissima se lorenzo almeno mi sembra che sia l'ultima domanda noi utilizziamo un bulk made in france tale bar che mi ripeto si con capsule attualmente abbiamo stampato medini in eu va bene impossibile medini italy peso percentuale costo prodotto e però se lorenzo io rispondo volentieri però mi devi dare la voce doganale perché senza la voce canale non riesco proprio dire se queste percentuali hanno senso o non hanno senso con la per con la voce canale del prodotto finito le so rispondere le rispondo anche volentieri però senza la voce canale non riesco a dare una regola di riferimento ok io credo che ci si possa fermare qua per oggi avevo annoiato abbastanza i partecipanti e io non credo dottore del nevo che abbia annoiato i partecipanti assolutamente tengo a ringraziare per come dire per l'ampiezza dell'esposizione per la chiarezza per l'entusiasmo posso usare anche la parola generosità che mi pare che non sia fuori luogo quindi ringrazio a nome della camera di commercio e mi permetto di ringraziare anche a nome delle aziende allora questo interessante intervento è stato registrato quindi noi daremo alle aziende spero domani al massimo dopo domani il link diciamo dove poter rivedere questa puntata e anche le slide possiamo mandarle noi come camera di commercio quindi torneremo ad approfondire le voci doganali il 27 di giugno direi che la prossima data è il 27 di giugno sempre al pomeriggio naturalmente poi come dire noi banderemo dei anzi il sistema in automatico manda di ricolle per ricordare alle aziende l'appuntamento del del 27 se ci sono poi delle domande siamo comunque insomma a disposizione vedremo di aiutare rispondere a qualche azienda che magari nelle tante che hanno fatto domanda come dire non non si è potuto rispondere io ricordo approfitto di questa occasione perché insomma le aziende sono veramente tante che come camera di commercio abbiamo avviato una nuova modalità di stampa del certificato di origine perché il certificato di origine sta andando diciamo verso una sorta di liberalizzazione ma parlo da un punto di vista non sostanziale parlo da un punto di vista materiale c'è la possibilità di stampare il certificato d'origine direttamente in azienda su un foglio bianco su un foglio bianco che riporta naturalmente tutte le caratteristiche del formulario è il formulario che conosciamo esatto che ufficiale che conosciamo molto bene ecco naturalmente è una semplificazione perché è come dire non si gestiscono i formulari si gestisce un come dire una risma di fogli bianchi che deve avere semplicemente una certa grammatura ma direi che è una grammatura assolutamente noi l'abbiamo riportata ma è una grammatura standard non è una grammatura come dire formante ecco esatto performante ecco particolare noi abbiamo scritto a tutte le aziende direi credo spero di aver scritto a tutte le aziende se qualcuna volesse magari è sfuggita la mail volesse altre informazioni particolari insomma volesse saperne di più può scrivere alla mail che tutti conoscono che è commercio estero chioccio la pr.cancom.it è una modalità questa che è stata avviata devo dire in tutte le camere di commercio italiane parma non arriva prima quindi è una modalità consolidata che come dire vale la pena di sperimentare secondo me nelle relazioni con nelle relazioni con i clienti può darsi che qualcuno dica no è assai probabile che molti dicano sì ma io lo consiglio vivamente avendolo già esplorato in tante altre camere di commercio esatto sì infatti non siamo arrivati voglio dire non siamo ultimi ma non siamo sicuramente sicuramente primi perché è una modalità che è stata avviata al tempo della pandemia per facilitare per facilitare contatto esatto 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 si rimane in ufficio e si fa tutto in ufficio chiaramente la firma è digitale ma la firma digitale la stiamo già facendo adesso sui formulari sui formulari ufficiali quindi concludiamo scusate ho scusate scusate ho cliccato qualcosa che non dovevo cliccare mi scuso mi scuso e scomparsa la mia faccia no ma noi la vediamo la settimana mi vedete allora sono io che ecco non riesco a ritornare ringrazio le aziende ringrazio ancora il dottor del nevo e ci diamo appuntamento il 27 di giugno grazie ancora buona sera buona serata a tutti grazie grazie